Faccio entrare io e anche gli ospiti. Perfetto. Quindi la registrazione l'abbiamo avviata. Buongiorno a tutti, sono le ore 9.20. Iniziamo la commissione, procedo con l'appello. A chi occorre la giustifica la chiede. Enrico Filippo Massimo? Buongiorno a tutti, presente. Siedi sola Marco? Presente, chiedo cortesemente la giustifica. Sì, prese. Sono in commissione. Chiarappa Patrizio? Crescensi Marco Maria? Cristichia Alessandra? Presente con giustifica, grazie Carmen. Cuoci Maurizio? Presente. Gaiardi Manuel? Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Francesca Riccardo? Presente con giustifica, grazie. Tallarico Alessandra. Consigliera Tallarico? La vediamo? Non la sentiamo. Ecco, infatti mi ero sbagliata a primo ripulsante. Buongiorno, presente. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda invece gli invitati, abbiamo presenti l'assessore De Novellis, L'ufficio bilancio? L'ufficio bilancio è presente. Perfetto. Ci sono altri uffici presenti? Beh, direi il direttore. Direttore sicuramente. E' il direttore? Sto così. Presidente, se vuole possiamo procedere appunto con l'ordine del giorno. Ok. Allora, intanto ammetto gli ospiti, che sono due persone. Quindi buongiorno a tutti. Abbiamo appena iniziato la seduta della Commissione Quinta. e l'argomento, come sapete, è quello del previsionario di bilancio. Sono già state svolte nel nostro municipio alcune sedute di commissione per iniziare a, diciamo così, l'istruttoria su appunto questo previsionario di bilancio. Quindi abbiamo già ricevuto sicuramente da parte degli uffici, degli assessori competenti qualche informazione. E oggi era prevista prima una commissione quinta, probabilmente anche deliberatoria. Nel frattempo, in corso di opera, sono state, diciamo così, aggiornati i lavori delle commissioni e del consiglio del municipio. quindi avremo anche altre sedute istruttorie da qui a sicuramente i prossimi giorni. Quindi intanto, come commissione quinta, avente esperienza, quindi deleghe del materia del bilancio, che è quella commissione che poi alla fine si deve esprimere, si dovrebbe esprimere su questa proposta, come è stato anche negli anni passati, possiamo iniziare ad approfondire a questo punto, intanto insieme agli assessori e agli uffici, quanto è stato fatto fino adesso e diciamo cosa si sta pensando di fare riguardo una serie di necessità o carenze che eventualmente sono state rilevate da parte degli uffici e degli assessori e quindi alcuni tipi di proposte e sicuramente già qualche considerazione da parte dei consiglieri che hanno partecipato alle sedute precedenti. Allora, per una maggiore fruttità della commissione, come al solito, io direi di fare intervenire sicuramente l'assessore e gli uffici in prima battuta. vedo e abbiamo messo alla seduta pubblica un paio di ospiti come cittadini, sicuramente se vogliono intervenire li faremo intervenire, se vogliono ascoltare possono tranquillamente ascoltare, cortesemente magari lascerei loro lo spazio verso la parte quando non ci sono più altri interventi o considerazioni da parte dei consiglieri, ma massima disponibilità comunque ad ascoltarli e anche i consiglieri quando vogliono intervenire sulle tematiche che si stanno trattando possiamo alzare la mano oppure segnarci nella chat della seduta. Vedo che comunque già c'è una mano alzata che è quella della consigliera Dallarico. Prima di iniziare se ha necessità di intervenire appunto prima che inizi il tutto consigliera le lascio la parola altrimenti la faccio intervenire successivamente. Decida valori lei. Sì, Filippo, grazie. Scusatemi se mi permetto di intervenire prima di tutti, ma essendo una premessa come dire di una mia proposta sulla prosecuzione dei lavori mi sentivo di farla adesso. Poi valutiamo insieme. Comunque nella seduta di ieri sul suggerimento della consigliera Pappatà e di altri consiglieri abbiamo comunque fatto intervenire prima gli assessori e gli uffici a seguire e poi siamo intervenuti nuovi. In realtà il mio intervento adesso è mirato al fatto che sto per caricare sulla piattaforma esattamente come ho fatto ieri un prospetto di sintesi dove io ho fatto una serie di comparazioni ieri l'ho presentato per quanto riguarda la scuola oggi lo presento completo per quanto riguarda la scuola le strade in alcuni casi ci sono anche degli immobili comparando ciò che è successo nel documento unico di programmazione che è stato approvato dalla giunta capitolina il 30 settembre 2020 ed il piano degli investimenti che è parte di questo bilancio di previsione all'ordine del giorno stamattina quindi per il triennio 2021-2023 ho ampliato questi dati rispetto al prospetto che ho presentato ieri in commissione per l'analisi sperando che anche oggi possa essere di vostro interesse come dire e curiosità l'approfondimento però l'ho ampliato perché ieri dopo avere discusso con l'assessore dei novellis abbiamo rilevato che bisognava tenere in considerazione anche il documento unico di programmazione che è stato elaborato a fine anno il 22 dicembre e da quello sono emerse con curiosità ulteriori differenze che ad oggi io per mia ignoranza perché non conosco tante cose probabilmente non si riescono a spiegare e allora per evitare sorprese ti sto anticipando sto anticipando alla commissione che io vi carico adesso anzi no facciamo così chiederò la cortesia se c'è Manuel che è tanto diciamo gentile come mi ha aiutato ieri posso passare a lui il file whatsapp e mi aiuta a vedere se possiamo riuscire a metterlo anche in condivisione per consentire la visualizzazione a tutti intanto però vi annuncio che per evitare di essere troppo pesante nel mio intervento esattamente come ieri siccome non ho intenzione di creare disagi nei lavori di nessuno io farò un intervento di cui ho come dire mediamente già impostato il testo in modo tale che sarà un intervento sintetico che mira a chiarire quelli che sono i miei dubbi e per questo quando sarà il momento di intervenire io poi aiuterò la gentilissima Carmen che oggi ha un compito difficile perché esaminare il bilancio a distanza è veramente pesante io le manderò come ho fatto ieri con Maria in tempo reale una mail che riporta il testo che io vi ho dettato se si potrà allegare agli atti il prospetto di sintesi che ho proposto perché non so se sarà possibile condividerlo facilmente io ve ne ringrazio diversamente faremo uno scopo io in questo momento incomincio a caricare il pdf ovviamente spero di avere le risposte che porrò sono tante e sono anche importanti qualora non le dovesse avere non me ne vogliate io chiaramente utilizzerò il verbale per tutti gli approfondimenti che saranno necessari eventualmente in futuro e con questo io ho terminato ti ringrazio Filippo ascolto e seguo i lavori intanto procedo con quello che vi ho anticipato grazie grazie se vi la dico Filippo non ci sentiamo ok fa tempo che vengono caricati questi suoi documenti non mi sa ora molto a tratti molto ho una connessione ci sentiamo a tratti Massimo sì io non posso fare più di questo e sentiamo comunque sto dicendo prima di poter eventualmente analizzare il documento che la Consiglia Dallarico sta provando a caricare nella chat o comunque nel gruppo della commissione della commissione quinta io inizierei a far parlare comunque l'assessore e i nostri uffici partendo sicuramente da quello che era un discorso generale rispetto a quanto fino adesso è pervenuto su questo previsionale per quanto riguarda il nostro municipio e cosa che probabilmente già avranno ripetuto l'assessore De Novellis anche nelle precedenti commissioni però è doveroso fare un riepilogo e cominciare ad analizzare quello che è emerso nelle varie commissioni da parte degli uffici e degli assessori competenti quindi vediamo se riusciamo ad analizzare per poi arrivare nell'arco della giornata o nella prossima seduta di commissione quinta a una sintesi e quindi a riuscire a capire fermo restando che poi giovedì ci saranno altre due commissioni come verrà come verrà costruito quel famoso famigerato allegato a quindi lascio la parola all'assessore De Novellis e agli uffici qualora volessero intervenire a supporto prego allora io buongiorno io darei un metodo alla commissione noi dobbiamo suggerisco a tutta la commissione se no perdiamo completamente l'obiettivo principale quello di esaminare atti ufficiali che sono stati deliberati dalla giunta capitolina non vedo che non trovo che ci siano tempi per dare risposte ad ulteriori analisi seppur proposte con professionalità magari condotte in maniera precisa però oggi dobbiamo concentrare l'attenzione sulla titolo 1 titolo 2 e eventuali proposte che sono state fatte in più io vorrei chiarire un concetto a tutti i consiglieri non esiste l'allegato A non esiste non è un documento sento dire da più parti l'allegato A l'allegato A l'allegato A non è un documento ufficiale che è previsto dalla legge 118 la legge sul bilancio purtroppo in Italia esistono tanti citi della nazionale io ci tengo a precisare che noi oggi stiamo dando parere ad un bilancio capitolino e in base a quel parere tutti i consiglieri tutti e 25 consiglieri tutte le forze politiche si esprimono in base a quel ai numeri che sono arrivati dunque i numeri che quindi non esiste un allegato A l'allegato A è la convenzione che abbiamo adottato in municipio per dire che tutte le richieste aggiuntive che vengono fatte a cura delle commissioni a cura degli assessori a cura degli uffici vengono riepilogati in un foglio un foglio excel a parte e quindi per convenzione noi etichettiamo allegato A allegato B allegato C eccetera quindi non esiste un allegato A esistono una serie di proposte fatte di integrazione o di variazione dei numeri che troviamo e che oggi faremo oggi faremo l'analisi e che eventualmente come presidente farete anche voi consiglieri come abbiamo fatto ogni anno ci date le integrazioni dunque dalle commissioni che abbiamo fatto fino a ieri in quella di ieri diciamo che abbiamo ad un certo punto parlato non di bilancio ma dopo la relazione del sociale degli uffici abbiamo parlato di lavori pubblici quindi la commissione di ieri ha aperto un fronte seppur corretto ma non da processo io adesso parlerei del POG allora poi presidente io farei una cosa a questo punto siccome gran parte delle persone che erano presenti ieri sono presenti anche oggi essendoci stata più commissioni congiunte eventualmente partiamo direttamente con le domande se avete domande da formulare perché gran parte dei numeri già sono stati esposti già sono stati abbiamo parlato di lavori pubblici abbiamo parlato di ambiente abbiamo parlato di tutto di scuola quindi eventualmente io suggerisco a favore di tutti come metodo se avete già dei suggerimenti ponetemi complessivamente quindi il nostro bilancio per quanto riguarda la direzione socioeducativa nominalmente non ha non ha carenze rispetto all'approvato bilancio approvato l'anno precedente perché c'erano 14 milioni e circa 14 milioni sono stati rilasciati la carenza è formulata in base in base all'assestato 2020 ciò significa che noi abbiamo abbiamo condotto durante l'anno delle manovre delle variazioni e queste variazioni nel nuovo bilancio non sono state prese in considerazione perché la fotografia è stata fatta prima che si consolidassero tutte le manovre quindi abbiamo riscontrato con la collega Caminiti e con gli uffici ricordo che l'analisi del bilancio viene fatta dagli uffici e poi di concerto con gli assessori dell'aggiunta quindi abbiamo riscontrato complessivamente su tutti i canali una carenza di circa 900 mila euro che ha di circa 900 mila euro che devono essere integrate per evitare che per l'assistenza indiretta vengano interrotti i contributi per 157 mila euro entro la fine tra gennaio e febbraio poi ci sono altre carenze dovute da colmare per il SIS e SISMIF da colmare nel corso d'anno concettualmente il bilancio il bilancio preventivo cerca di prevedere la spesa di tutto l'anno ma se l'equilibrio di bilancio questo mi riferisco a quello che fa l'assessore Lemetti non lo facciamo noi qui nel municipio essendo noi una filiale essendo noi distaccati un municipio l'equilibrio di bilancio quest'anno non ha consentito di distribuire a priori tutte le risorse quindi in corso d'anno supponiamo e stiamo avendo l'assicurazione dal Campidoglio che in corso d'anno possono se non già da subito possono essere quindi già colmate quelle partite che da subito devono essere colmate quindi complessivamente il nostro bilancio per quanto riguarda la spesa corrente non ha del sociale ha dei capitoli da colmare immediatamente ma ha dei capitoli che sono messi abbastanza bene o da colmare nel corso d'anno invece per quanto riguarda io la mia relazione la faccio per per centro di responsabile per direzione quindi abbiamo complessivamente la carenza più grossa l'abbiamo riscontrata invece all'interno della direzione tecnica che include che include l'edilizia per le scuole per gli edifici include la manutenzione per le strade include la manutenzione per gli altri edifici che sono diversi dalle scuole come ad esempio i mercati quindi abbiamo riscontrato delle forti carenze abbiamo chiesto che venissero colmate e complessivamente si sommano a circa due milioni e mezzo un milione in particolare un milione per le strade un altro un milione circa per gli edifici e altre carenze per le manutenzioni del verde mentre per quanto riguarda poi la cultura e sport sono state chieste delle integrazioni io di circa 20 mila euro quindi complessivamente le nostre carenze ammontano ad oggi a 3 milioni e 900 mila euro avendo fatto l'analisi delle singole piste dei singoli capitoli non sto qui a ripetervi tutto ovviamente io farei poi aspetto i suggerimenti dei consiglieri con cui ogni anno abbiamo lavorato se volete possiamo analizzare capitolo per capitolo e vediamo quali sono le carenze riscontrate ma già le abbiamo dette nelle altre commissioni e quindi complessivamente la nostra carenza è di 3 milioni e 9 sulla spesa corrente passando invece agli investimenti gli investimenti abbiamo avuto 17 milioni l'anno scorso ne avevamo avuto 10 in approvazione e con questi saremo circa 40 milioni 45 se non vado errato da quando ci siamo insediati una cifra enorme rispetto alle precedenti diciamo agli anni pregressi dove da quello che ho potuto ricostruire nei 7 anni antecedenti ai nostri sono stati spesi circa 4-5 milioni in un periodo di tempo tra 5-7 anni quindi complessivamente abbiamo avuto notevoli investimenti ovviamente questi investimenti trovano un delay per la spesa abbastanza lungo io mi fermerei qui perché poi penso che i consiglieri abbiano già pronte le domande e così a fare un lavoro profigo per tutti e cercare di essere diciamo abbastanza veloce e analizzare tutti i capitoli prego sì grazie assessore allora nel frattempo ho messo anche altri ospiti ai quali auguro il buongiorno e il buon anno spiegando che abbiamo iniziato questa seduta di commissione con un discorso generale sul previsionale di bilancio che riguarda il nostro municipio come avevo detto prima se qualcuno di loro vuole intervenire lo può fare tranquillamente valuteremo un attimino probabilmente dopo la discussione che verrà intavolata e se ci sarà tra i consiglieri assessori e gli uffici intanto grazie all'assessore per questo riepilogo sì probabilmente la maggior parte dei consiglieri che sono presenti fra parte della commissione quinta hanno già assistito almeno ad una commissione facendone parte probabilmente non ho partecipato ad alcune commissioni quindi alcuni argomenti ancora per così dire non li ho ascoltati da parte degli uffici e degli assessori competenti da presidente di commissione mi sento anche di dire per un quadro diciamo così generale dal quale io ho una considerazione personale dalla quale secondo me è opportuno partire ok va bene tutto ricordiamoci che il 2020 è stato un anno è è stato un anno sicuramente abbastanza critico per tutti ovviamente anche per le amministrazioni comunali nonché municipali e quindi di conseguenza anche sul discorso entrate ogni amministrazione comunale ha avuto sicuramente delle difficoltà che poi verranno diciamo così pareggiate da interventi a cascata da enti superiori lo vedremo e eventualmente si conterà in corso di ora però dobbiamo partire anche da questo presupposto rispetto a un quadro generale del bilancio poi se le entrate sono scelte ma trovate delle soluzioni come dire anche alternative e a volte anche molto molto artistiche insomma per cercare di andare ecco scusami presidente non la sentiamo non la sentiamo sento molto attrattata quindi ok allora lascio la parola a questo punto a chi vuole intervenire vedo che c'è il consigliere cuoci chiedo alla consigliata l'arico nel momento in cui poi ha caricato quel file di cui parlava per eventualmente capire di cosa si tratta se può cortesemente avvisarmi quindi consigliere cuoci lascio a lei la parola per intervenire chiedo cortesemente che non si avrà un dibattito un dibattito quindi un botte risposta ma insomma facciamo un intervento facciamo intervenire chi sta parlando facciamolo concludere poi chi deve rispondere e vuole rispondere può farlo grazie allora buongiorno a tutti e grazie Presidente per avermi dato la parola io volevo fare alcune riflessioni alla luce diciamo della lettura generale del bilancio che ho potuto fare e anche in base diciamo alla rapida presentazione che ha fatto l'assessore allora sostanzialmente sono molto preoccupato tra virgolette delle parole dell'assessore per un motivo molto semplice sostanzialmente che mancano allo stato attuale 3 milioni e 900 mila euro sulla spesa corrente e sono in particolare 3 milioni e 900 mila euro che mancano rispetto al consolidato del 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 2020 quindi significa che noi con la spesa corretta del 2020 evidentemente come molte amministrazioni pubbliche come anche diciamo Roma Capitale non è sempre in grado di soddisfare con i propri bilanci tutte le esigenze dei cittadini del territorio quindi sicuramente nel 2020 non avremo soddisfatto con le cifre a disposizione tutte le necessità dei cittadini del territorio figuriamoci se questi 3 milioni e 900 mila euro non esisteranno nel 2021 come si potrà affrontare diciamo questo anno che abbiamo davanti tra l'altro come diceva anche il Presidente della Commissione sarà un anno ancora più difficile rispetto a quello precedente perché mi sembra evidente per esempio sul piano dei servizi sociali che purtroppo ahimè la pandemia porterà delle nuove esigenze delle nuove povertà a cui chiaramente le amministrazioni pubbliche devono dare risposte e non possono sottrarsi la seconda questione che diciamo che credo sia da affrontare oltre a questo appunto dei servizi sociali con il riferimento alle povertà è quella anche legata al patrimonio scolastico un patrimonio scolastico che evidentemente va rinnovato diciamo anche in funzione della pandemia nella sua riorganizzazione degli spazi nella sua digitalizzazione insomma in tutto quello che può comportare appunto un nuovo modello di scuola fra virgolette insomma quindi io credo che proprio in virtù di questo credo che i 3 milioni e 900 mila di cui si parlava rispetto all'assestato del 2020 debbano essere ulteriormente incrementati a diciamo come richiesta propria degli uffici b come richiesta della politica perché poi chiaramente è la politica che deve dettare sostanzialmente le necessità e il quantum da stanziare quindi è evidente che quei 3 milioni e 900 io mi aspetto che nella proposta diciamo di questo allegato A siano almeno pari a 5 milioni e non non si accontentino di assestarsi diciamo al consolidato del 2020 quello che mi preoccupa e li avremo mai questi soldi parliamo di rassicurazioni verbali parliamo del fatto che l'assessore stesso per sua bocca ha detto che di fatto l'allegato A è inesistente fra virgolette una richiesta è un foglio di carta di cui il Campidoglio potrà tenere conto o potrà tenerne conto e parte non potrà tenerne conto per nulla quindi mi preoccupa questo fatto insomma che l'allegato A non esiste perché diciamo che l'equazione matematica mi dovrebbe far pensare che mancano 3 milioni e 9 aumentano le povertà bisogna rimettere mano al patrimonio scolastico quindi mancano più di 3 milioni e 9 l'allegato A è un allegato inesistente ergo mi aspetto un voto contrario da parte di tutti a questo bilancio che è evidentemente totalmente insufficiente quindi questa è la prima parte posso dare un chiarimento sull'allegato A probabilmente mi sono spesso male allora stiamo dando il nome ad un prospetto io intendevo dire che stiamo dando un nome ad un prospetto che non è un prospetto definito per legge è un prospetto di prilogativo di tutte le proposte integrative che andremo a mettere alla proposta di bilancio è chiarissimo è chiarissimo non ho detto che non esiste ho detto che l'allegato A non è un documento contabile è la nostra proposta di integrazione punto lei è stato chiarissimo Presidente Assessore è stato chiarissimo lei sta dicendo che sono le nostre richieste che potranno non potranno potranno essere accolte in parte dall'amministrazione centrale e quindi siccome non abbiamo garanzie in questo quando l'Assemblea Capitolina avrà votato il bilancio è evidente che è un bilancio che ci lascia scontenti questo era il punto quella è una richiesta che può essere accettata o meno l'inesistenza è dovuta a quella se dobbiamo parlare sui numeri come ha detto lei sulla proposta comunale la proposta comunale parla di un ammanco passiamo invece alla questione che riguarda il piano degli investimenti che a parte il fatto che si potranno anche far crescere diciamo a dismisura fino a 200 milioni l'anno gli investimenti ma poi se questi soldi vengono o non spesi come spesso succede o posticipati di anno in anno a un triennio successivo e via discorrendo potrei fare l'esempio banale insomma degli antincendio che ancora aspettiamo in scuole già programmati da tempo per esempio insomma tanto per dirne una ma quindi i soldi non bisogna solo tra virgolette stanziarli perché tra l'altro non sono stanziati perché molti partono diciamo da alienazione di beni da una parte e accensione di mutuo dall'altra che andranno comunque nel tempo accesi quindi bisogna pure poi spenderli i soldi detto ciò in particolare diciamo mentre sulla spesa corrente è un fatto numerico che insomma bisognerà incrementare necessariamente delle voci e in particolare in questo credo che gli uffici già nei giorni scorsi abbiamo fatto un ottimo lavoro nelle commissioni per quanto riguarda il piano degli investimenti che invece è un risultato del tutto politico cioè di scelta politica non è più una scelta degli uffici e qui si apre un mondo si apre un mondo perché rispetto a quello che abbiamo votato l'anno scorso spariscono completamente delle cose cioè avevamo votato un piano l'anno scorso triennale quest'anno ripetiamo un piano triennale ma le cose che abbiamo votato l'anno scorso alcune ne spariscono laddove altre invece vengono rimaneggiate in termini economici laddove altre ancora diciamo vengono anticipate rispetto ad altre e in questo devo dire che ci sfugge ogni sorta di criterio poi se andiamo ad analizzare ancora di più che avremo degli ammanchi dal punto di vista della spesa corrente in particolare sui lavori pubblici e sulle scuole così come detto che è la parte più colpita e quindi insomma vi lascio immaginare già oggi come sono in che condizioni sono molte delle nostre scuole dal punto di vista della messa a norma e come sono le nostre strade dal punto di vista delle buche anzi oserei dire dei crateri che ci sono e noi anche lì sul piano degli investimenti invece di prendere il toro per le corna ci occupiamo dei marciapiedi che sia ben chiaro vanno fatti vanno sicuramente rimessi a posto vanno sicuramente aggiustati perché è una cosa sacrosanta ma mi occuperei prima di dare priorità a quelle strade che sono veramente disastrate laddove passano gli autobus laddove passano non riescono a passarci più le ambulanze e quant'altro anche lì è una scelta che vorremmo in qualche modo capire senza parlare poi che mi sembra che in parte alcuni quartieri siano completamente dimenticati dal piano degli investimenti comunque non vedo grandi opere qualificanti per il territorio e per il municipio e laddove ancora vedo concentrati questo piano degli investimenti in un quadrante ben preciso del territorio che non solo quello che in continuità ha avuto più finanziamenti rispetto al passato ma che continua non solo ad averne di più ma anche un'anticipazione dal punto di vista dei tempi beh questo per noi fermo restando che le cose vanno fatte quindi non è che chiediamo di cancellare nulla ma comunque vorremmo capire delle cose e andare ad integrare questo piano ed eventualmente anche dal punto di vista delle proprietà delle diciamo delle annualità di svolgimento di alcune opere cioè credo che sia per esempio più impellente fare le strade nei marciapiedi almeno insomma nella programmazione dei lavori sul piano degli investimenti tra l'altro io direi che i marciapiedi sono qualcosa che andrebbe fatto con la manutenzione ordinaria e non con diciamo il piano degli investimenti anche lì insomma dovremmo un attimino discuterne per capire se c'è la possibilità di spostare quei fondi su una voce di cui il territorio ha più bisogno per adesso mi taccio diciamo dal punto di vista di visione generale grazie grazie consigliere Cuoci io ho perso qualche secondo la linea la connessione non so ho sentito che l'assessore voleva rispondere non so se ha risposto oppure vuole rispondere adesso perché ho perso ho chiarito ho chiarito ok perfetto grazie e se non vedo se non sbaglio c'era la mano alzata del consigliere Cagliardi non mi sembra che ci siano altre prenotazioni quindi consigliere Cagliardi prego grazie Presidente io mi udisco alle considerazioni del consigliere Cuoci e senza diciamo siamo giunti rosso modo alla stessa impressione mi lascio abbastanza basito una certa scioltezza con la quale vengono dati i numeri e i giudizi sui numeri nel senso che un ammanco di 3 milioni e 9 non è un gioco soprattutto sulla spesa corrente quindi pensare che in fondo non abbiamo problemi perché ma poi tanto chiederemo penso sia proprio l'atteggiamento sbagliato dai cuoi partiti e questi mesi ci stanno insegnando come purtroppo il protrarsi di questa pandemia porta non solo dei disagi a livello come dire della vita quotidiana ma anche dei disastri a livello economico a livello sociale delle sofferenze delle nuove necessità e francamente io interrogo sulla capacità di risposta da parte dei servizi del comune di Roma rispetto a queste nuove esigenze io ricordo ai consiglieri e soprattutto agli assessori presenti per quanto mi riguarda è rimasta ancora appesa una domanda che è quella del cosa si sta facendo e quali risorse abbiamo a disposizione per rispondere nell'immediatezza alla necessità di semplicemente mettere il pane sulla tavola delle persone quali servizi stiamo offrendo e se è sufficiente rispetto alle stime alle prime poche stime che abbiamo avuto modo di vedere nel periodo della pandemia con il sostegno al reddito e con il sostegno all'affitto che io ricordo a tutti quanti è una voce che forse chi ha la fortuna di avere una casa di proprietà non si deve porre ma che molti altri invece rappresenta il dramma quotidiano soprattutto in una fase come questa che sono ancora ferme nonostante gli stanziamenti continui da parte di bonus sia regionali che di altra natura che però la macchina per mancanza di risorso umana quindi anche qui il tempo del bilancio torna sulla necessità di poter offrire un servizio all'altezza delle necessità concordo sulla polarizzazione oltretutto dal punto di vista degli investimenti su alcune zone e come dire trovo allarmante che intere aree del nostro territorio siano sguarnite di qualsivoglia tipo di intervento e anche sul patrimonio scolastico mi sembra che molta parte degli interventi come dire si si allunghino sul nostro territorio in un modo un po' disomogeneo senza tenere conto di una serie di anche segnazioni allarmi che ci sono venute dal territorio che abbiamo fatto noi tramite atti in consiglio e via dicendo è come se prima di questo bilancio fosse passato un rullo compressore che ha un po' cambiato tutti quanti gli elementi sul tavolo ecco in conclusione io tornando al sociale vorrei anche come dire rilanciare l'attenzione di tutti quanti su questo nel senso che quanto c'è stato dato non è sufficiente già come abbiamo visto per coprire il corrente ma evidentemente ci troviamo anche di fronte a una realtà che comunque sia sarà magmatica che si protrarrà ancora che magari muterà i propri i propri nomi che soprattutto io non ho capito e non sono sicuro se noi abbiamo oggi la possibilità di dare il servizio non solo a chi abbiamo già in carico ma anche a tutta la platea che si andrà a giungere sia come l'estate attesa sia come nuove richieste questa cosa in un momento come questo molto delicato francamente per me passa soprattutto passa soprattutto anche alla manutenzione stradale tanti altri perché questa è la cara del territorio quindi ribadisco qua delle domande che ho già posto anche io e in conclusione una domanda che è rimasta attesa che giustamente c'è una parte dei cittadini che oggi rinnovo questo è un caso molto specifico perché non l'ho trovata all'interno delle voci di bilancio quindi spero che gli assessori mi possano dare risposta su questo circa la creazione degli uffici del nuovo istituto complessivo di Torino Mezzogammino se sono stati gli atti che questo municipio stesso ha promosso raggiunto per cui oggi siamo giunti a creare questo istituto complessivo sono stati stanziati i fondi per creare gli uffici amministrativi della dirigenza scolastica della scuola e quindi finalmente completare l'istituto complessivo che oggi ricordo tutti quanti non ha la presidenza all'interno dello stesso istituto ma è al di fuori per ragioni di mancanza sostanzialmente di locali idonei io non l'ho visto spero che qualcuno possa dirmi che mi sto sbagliando grazie grazie consigliere Cagliardi ci sono altri interventi di altri consiglieri? sì io presidente ok prego vicepresidente crescenzi grazie io volevo fare delle considerazioni alla luce di quanto ho avuto modo di ascoltare anche in questi giorni insomma complessivamente insomma volendo poi anche approfondire nelle successive commissioni che sono state convocate sull'argomento bilancio mi riferisco in particolare alla successiva commissione sesta e prima ulteriori rispetto a quelle che ci sono già state allora io ho ascoltato con apprezzione come tutti i colleghi i numeri che ci sono stati proposti dall'aggiunta e dagli uffici con il loro supporto senz'altro si riconosce ovviamente dall'esigenza di dover coprire con grande sollecitudine i capitoli che sono che sono attualmente carenti per quanto riguarda la spesa ordinaria ma secondo me è importante a questo punto anche chiarire che le ulteriori richieste appunto per il titolo per il titolo primo che ammontano a circa 3 milioni di euro complessivi in particolar modo soddivisi tra i servizi che sono erogati dalla direzione sociologativa e datori che sono invece diciamo erogati dalla direzione tecnica quindi parliamo di manutenzione ordinaria edifici e viabilità sono ulteriori richieste basate su servizi che sono nostri che sono attivi quindi in realtà vi vorrei un attimo capire con i colleghi che hanno chiesto eventualmente di poter chiedere ancora più fondi per quanto riguarda il titolo primo esattamente dove vorrebbero poi andare a richiedere queste queste cifre ho sentito mi pare il capogruppo fratello che diceva ne stiamo chiedendo 3 milioni chiediamone 5 allora vorrei capire quindi qual è la proposta cioè se io sto chiedendo 540 mila euro in più per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare disabili che è un servizio che il municipio eroga io li sto chiedendo questi fondi in più perché ho la certezza di avere un tot numero di persone in carico so quanto costa mediamente ogni persona che prende in carico e quindi sulla base di questo tutto sommato semplice calcolo chiedo dei fondi in più per coprire appunto il servizio che io attualmente sto erogando e la platea alla quale rivolgo questo servizio quindi questo un chiarimento che serve più che altro a me a questo punto e spero che comunque possa essere utile a tutti i colleghi per quanto riguarda invece il piano degli investimenti io sinceramente ho sentito da subito questa critica che sinceramente accolgo e allo stesso tempo però mi sento di respingere mi spiego allora se senz'altro non è dovuto a questioni squisitamente politiche ecco la vostra la vostra sensibilità dice che sono stati concentrati i fondi in determinati in determinati quartieri piuttosto che altri ecco sicuramente non è non è una una precisa scelta politica con uno scopo magari che va suddodorato eccetera nulla di tutto questo allo stesso tempo però dico anche sì con il lavoro di tutti insomma e con le conoscenze del territorio che possiamo e dobbiamo mettere a servizio insomma di tutta la comunità e quindi in questo caso specifico del bilancio del nostro municipio assolutamente sono veramente pronto a sentire le proposte di ulteriori assegnazioni di fondi nel titolo secondo quindi nel piano investimenti per progetti di strade di edifici che sono che sono presenti e che ritenete necessari dover inserire ovviamente tenendo conto della situazione complessiva e tenendo conto del fatto che non saranno ovviamente tutte accettate le nuove ulteriori vostre richieste però insomma assolutamente ragioniamoci non mi sentirei di blindare tutti i numeri che ci sono che ci sono all'interno del bilancio però ho delle perplessità che vi ho spiegato per quanto riguarda il titolo primo nel richiedere ulteriori fondi perché sinceramente non so dove si dovrebbero andare poi ad allocare visto che il titolo primo si basa insomma non lo ripeto quali sono i meccanismi del bilancio che conosciamo per quanto riguarda invece il titolo secondo vorrei sapere quali sono le proposte insomma perché è importante a questo punto riuscire in qualche modo insomma ad accontentare tutti poi ultima ultima questione e mi taccio per ascoltare insomma le risposte che ho visto che si stanno già prenotando altri colleghi vorrei un attimo anche un po' chiarire insomma tentare di non lo so dare risposte in qualche misura cioè ci sono delle difficoltà rispetto a quelli che sono i servizi erogati con fondi statali o con fondi regionali e che comunque in tutti i casi vengono poi dati forniti direttamente dalle regioni ai comuni che nella fattispecie del comune di Roma capitale ci sono delle difficoltà oggettive in riferimento a quelle che sono le procedure poi amministrativo tecniche insomma la burocrazia per l'erogazione di questi fondi dovuti non ovviamente a parer mio ecco non è una mia opinione singola ma insomma elaborata da più soggetti non solo politici ma anche amministrativi che sostanzialmente creano un'enorme difficoltà nell'erogazione di alcuni fondi come può essere ad esempio per i bonus spesa come può essere per i pacchi alimentari in particolare quegli ulteriori fondi messi a disposizione della regione che non hanno così come sono stati erogati non hanno dato da subito la possibilità al comune di Roma di fare degli acquisti centralizzati che poi fa gestire direttamente i municipi sulla base delle esigenze che vengono rilevate istantaneamente sul territorio bensì una diciamo hanno riversato i fondi sul comune di Roma con la postilla diciamo a margine con la clausola di doverli poi riassegnare proporzionalmente municipi che poi individualmente il singolo municipio deve fare una sorta di gara fare un affidamento per acquistare dei beni da poter dare poi ai cittadini che ne hanno esigenza questo insomma comporta un allungamento considerevole dei tempi oltre che un aggravamento anche delle procedure stesse insomma presidente mi senti presidente ecco sì non avevo capito se il consigliere ho pensato al consigliere Crescensi che non ha il piano degli investimenti dovreste averci tutti tutti i documenti perché mi sono sincerato io che gli uffici io non ho detto questo allora ho capito male comunque ve l'ho messo qui dentro ho capito che il piano di investimenti forse ho sentito male però vi ho allegato il piano di investimenti del nostro municipio grazie grazie ma io non ho detto che non avevo il piano anzi ah vabbè comunque l'ho allegato qua se vi sento se vogliamo analizzarla allora comunque grazie all'assessore per aver caricato il file anche in modo tale che tutti gli altri consiglieri qualora non lo avessero potessero comunque prenderne atto sì allora faccio un breve un breve stacco nel senso che fondamentalmente concordo un po' con tutti gli interventi che sono stati effettuati infatti fino adesso chi più chi meno qualche sfaccettatura concordo con sicuramente con un obiettivo che secondo me dovrebbe essere un obiettivo comune rispetto a quanto già stavo sostenendo prima con la speranza che mi possiate ascoltare perché la linea purtroppo è quella che è proprio in virtù del fatto che è un anno veniamo da un anno particolare che il 2020 è stato un anno particolare e che il 2021 di conseguenza di conseguenza sarà un anno probabilmente ancora più particolare e più difficile che dovremo affrontare perché veniamo già da un anno precedente 2020 molto critico e questo 2021 diciamo che non sta iniziando con gli auspici che tutti avevamo quindi probabilmente sarà ci porteremo dietro anche la zavorra del 2020 con un 2021 molto molto critico almeno dal punto di vista dei conti dell'economia e quindi anche del bilancio per un'analisi più concreta quello che mi aspico è che possa essere questa sede di confronto ma non solo questa della commissione quinta di oggi ma anche delle commissioni future che ci saranno e del consiglio che abbia almeno noi nel nostro municipio di trovare un obiettivo comune al netto di tutte le esigenze che tutti i consiglieri stanno rilevando chi in un modo chi nell'altro e che quindi ci sia un vero e proprio confronto con un obiettivo che possa essere comune cortesemente chiedo agli osti di mutarsi grazie e e quindi ecco partendo da questo presupposto cominciare ad analizzare veramente in maniera magari critica ogni proposta che ci possa essere sul tavolo delle varie commissioni e del consiglio quindi accolgo sicuramente la richiesta diciamo così il grito di necessità di valutare effettivamente anche sul titolo primo rispetto a quei 3 milioni errotti che ci sono diciamo così in meno rispetto all'asse Stato del 2020 sia per la parte sociale che per la parte tecnica di valutare come poter fare in modo di almeno arrivare al pareggio ma accolgo anche la diciamo così la dichiarazione del consigliere Crescenzi sul titolo primo non voglio essere ritondante ormai l'abbiamo capito sappiamo come funziona come dove andare a chiedere quel quid in più che eventualmente anche il consigliere cuoci poteva stava diciamo così proponendo e allo stesso tempo anche sul titolo secondo che sicuramente ci permette di avere una visione un pochino a lungo termine proprio perché come diceva anche l'assessore come dire tra il dire e il fare c'è di mezzo il tempo noi proponiamo sicuramente ma prima che riusciremo a vedere un'opera magari del titolo secondo che sta in questo previsionale del 2021 probabilmente se siamo fortunati verso i primi mesi del 2022 potremmo come dire avere contezza di quel tipo di opera ma è una visione a lungo termine e base anche a una serie di commenti di considerazioni che sono state fatte da qualche consigliere che ha ritenuto secondo la propria valutazione che alcuni investimenti la maggior parte dei investimenti fossero diciamo riguardassero alcuni quadranti del nostro municipio mentre alcuni altri quartieri quadranti ne fossero come dire privi valutiamolo come diceva il consigliere dei scienzi andiamo a capire effettivamente quale possono essere le reali esigenze del territorio o qualora ci fossero state secondo l'intervento di alcuni consiglieri delle come dire delle disparità valutiamolo fermo restando che dobbiamo sempre ricordarci che anche sul titolo secondo ci sono anche lì una serie di paletti per i quali dobbiamo indicare eventualmente alcuni alcuni tipi di opere mentre altre ad oggi non siamo in grado di poterle inserire in quel previsionale questo era un breve resoconto comunque lascio la risposta ora nell'ordine vi chiedo scusa non so chi ha alzato prima la mano tra Cuoci Gagliardi Tallarico e De Novellis che vedo con la mano alzata fate ditemi voi chi si era prenotato per primo io mi sono prenotata durante l'intervento di Crescensi se può essere d'aiuto perfetto allora consigliere Tallarico lascio a lei anche perché tra i tre è l'unica donna quindi lascerei la precedenza probabilmente a lei anche per questa per questa cosa ora rossisco dai dai presidente non può fare a nostri che mi confondi questa è una strategia no 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 è giustissimo brevissimamente rispetto all'ultima considerazione del consigliere Gagliardi mi stavo dimenticando rispetto all'argomento che è venuto fuori già ieri in commissione diciamo così congiunta con scuola e politiche sociali della richiesta da parte di una cittadina che forse prima avevo visto ma alla quale c'è comunque pervenuta anche una PEC di richiesta ma non per nulla consigliere Gagliardi poi se l'assessore vuole rispondere rapidamente lo faccia tranquillamente lascerei tornerei sul discorso del bilancio dell'analisi del previsionale da quello che ho capito erano fondi che sono stati già stanziati quindi si tratterebbe più o meno di capire è un consuntivo lavori di lavori pubblici all'interno della scuola tra l'altro giovedì c'è anche una nuova commissione lavori pubblici probabilmente anche in quella sede si potrà avere risposta detto questo la PEC è arrivata anche credo agli assessori quindi si potrà tranquillamente rispondere anche alla cittadina in quel modo però ecco cerchiamo io ci sono Presidente ci sono pulito ci sono ok perfetto se posso un secondo solo per chiarire anche per le risposte ok in questo caso le posso assicurare che non è un consuntivo però solo questo perché i lavori non sono stati fatti proprio perché non c'erano i fondi distanziali quindi se ci sono devono stare nel preventivo altrimenti non ci sono va bene quindi lascio la parola adesso alla consigliera Dallarico e poi a seguire ora un concetto contabile perché qui parliamo di bilancio e Cuoci come sempre fa delle riflessioni interessanti se mi consente prego allora poi consiglia Dallarico dopo l'assessore Maurizio Cuoci ci sei? c'è c'è in ascolto ci sono ci sono ovviamente ci sono l'ascolto con molto interesse Maurizio mi puoi dare anche del tuo allora ti ascolto con molto interesse grazie allora Maurizio è corretto quello che dici la preoccupazione c'è tutta noi siamo persone scrupolose attente e speriamo che in corso d'anno vengano rimpinguati i soldi ma ovviamente per Roma Capitale come per tutta l'Italia e tutto il mondo c'è la pandemia in atto e corriamo ai ripari in tanti modi la prima cosa purtroppo la modifica costituzionale non consente di andare in default quindi di andare in disavanzo e purtroppo dobbiamo dobbiamo stare attenti e fare i conti proprio al centesimo col bilancio questo è il discorso per cui ci sono delle carenze comunque abbiamo noi abbiamo fatto subito al nostro assessorato abbiamo subito fatto rimostranze dicendo che mancavano delle maledizioni di sport cosa? Assessore scusi sicura sentiamo un pochino attratti vediamo un po' se mi avvicino al microfono e comunque volevo specificare che le richieste che formuliamo che vengono formulate devono essere giuste non in più devono essere né troppo poche né in più quindi le richieste che vengono formulate e poi aggregate in un foglio excel corredate alla proposta di delibera sono richieste che devono essere congure quindi non possiamo chiedere 5 milioni 10 milioni magari sugli investimenti dove si va a fare una nuova spesa là si si può ci si può spingere anche perché là ci sta la possibilità di indebitarsi con dei mutui ma la spesa corrente no è bloccata e quindi va chiesto il giusto e noi riteniamo che avendo formulato con ogni ufficio di concerto con la giunta abbiamo formulato una richiesta che vale 3 milioni e 9 circa questo è il discorso grazie ok Filippo prego consiglio io corretto posso intervenire vero ok allora io cerco di rimanere tranquilla ma in realtà mi sto incominciando ad arrabbiare mi sto incominciando ad arrabbiare perché la prima cosa è che noi dobbiamo essere consapevoli consapevoli di quello che andiamo a votare quindi ieri che cosa è successo quando io ho provato a portare consapevolezza o almeno a cercare di chiarire delle domande che si vi ripropongo adesso esattamente come le ho fatte ieri perché questa è la seduta nella quale devono arrivare le risposte ieri le risposte o non sono proprio arrivate per consentire di arrivare ad una votazione consapevole mancavano perfino gli assessori io ieri ho fatto notare che essendo stata fatta una convocazione d'ufficio non so chi l'ha fatta non sono stata coinvolta nella definizione della data e dell'orario ma va bene comunque ma sono stati commessi degli errori perché per la prima volta la commissione scuola dopo 4 anni e mezzo di consigliatura non ha potuto avere il supporto per quanto riguarda gli interventi di natura tecnica che toccano l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria dei plessi questo è importante tant'è che abbiamo provato a cercare l'assessore io ieri ho detto almeno che ci siano stamattina che ci sia presente l'aggiunta per poter chiarire ogni dubbio visto che oggi è una seduta istruttoria che vuole avere come obiettivo quello anche deliberativo detto questo ieri mancavano anche le consulte mancava la consulta della cultura no mancava ufficialmente perché informalmente io ho provveduto ad avvertirli ma mancava la consulta per le disabilità per la quale non ho un contatto personale e quindi stamattina non so se loro hanno potuto o meno aderire ai lavori detto questo detto questo Filippo tu lo sai ovviamente io non ce l'ho con te ma la cosa importante è che io in questo momento stamattina ufficialmente vengo a sapere che mentre oggi avremmo dovuto votare la delibera di bilancio perché avevamo tempi ristretti perché nessuno vuole andare incontro all'esercizio provvisorio eccetera eccetera io apprendo che ci sono stati dei cambiamenti in corso d'opera ma fosse che a questo punto sono stata così fortunata ad avere fatto capire all'aggiunta che noi senza quelle risposte non siamo in grado di votare consapevolmente perché noi facciamo una politica del territorio ma è anche vero che ci è stato sottoposto agli occhi un documento molto corposo con molti contenuti molti allegati come ha detto ieri l'assessore è una giungla di documenti e quando io ho fatto degli interventi e dopo ve lo dico in analitico per esempio chiedevo a proposito del museo della civiltà romana mi è stato detto che non potevo occuparmi delle previsioni all'interno del bilancio per quanto riguarda la parte di diretta competenza di Roma Capitale o della sovrintendenza o del dipartimento eccetera perché noi dobbiamo limitarci a guardare la sezione del municipio 9 allora non mi fate arrabbiare perché signori anche stanotte io ho fatto le 3 è mio dovere stamattina alle 7 lavoravo ma sono giorni da quando ci è stato consegnato il bilancio che io ho questi numeri e me li sono scartabellati tutti allora se voi ci date da studiare 1054 pagine di DUP e poi ne escono altre 1090 e poi escono 540 pagine del documento del piano degli investimenti è chiaro che è nostro dovere studiarceli ma non mi venite a dire che però non me li dovevo guardare allora la prossima volta mi fate un estratto io mi guardo le 10 paginette che mi devo guardare e mi pronuncio solo su quello allora io oggi mi devo pronunciare sul bilancio di Roma Capitale chiudo la parentesi nel mio come dire interesse a cercare di capire e di approfondire proprio perché la politica del territorio è importante noi in questi 5 anni abbiamo accolto le istanze del territorio che non era soddisfatto delle richieste ci hanno detto quando ci date quando ci fate siamo disperati c'è gente che muore perché le strade sono bucate ci sta gente che muore perché gli incidenti sui marciapiedi esistono e quindi gli incidenti non devono succedere perché la sicurezza dei cittadini è importante per tutti e allora dico visto che io sto lavorando su un bilancio triennale fammi capire che cosa è successo relativamente a quello che era previsto nel documento unico di programmazione che peraltro quest'anno è stato redatto il 30 settembre quindi ad una distanza veramente ravvicinata rispetto all'elaborazione del piano degli investimenti e del bilancio di previsione e addirittura ne è stata elaborata una nuova versione il 22 dicembre cioè praticamente sono nati quasi insieme questo bilancio di previsione ed il DUP aggiornato vi vorrei far notare che comunque in questo mio esercizio dove tutti potete ma probabilmente già l'avete aperto perché è un tavolo istruttorio quindi qui si fa politica ma si lavora anche sui numeri e quindi dobbiamo sapere di che cosa si parla ti dico che effettivamente ci sono delle cose che proprio non si riescono a comprendere e quindi le risposte dall'aggiunta e dagli assessori competenti sono fondamentali se oggi non c'è l'assessore Maiolati che ci aiuta se oggi non c'è l'assessore Lalli se oggi non c'è l'assessore Drago che ci aiuta a capire ad interpretare certi numeri come facciamo a votare consapevolmente allora dico ma fosse che dopo quello che è successo nella commissione di ieri che è durata quattro ore rispetto a quella lavori pubblici che è durata un'ora e quarantanove e non è entrata nel merito dei numeri nel periodo prenatalizio in modo tale come è stato fatto ieri non mi interessa il motivo perché questa è politica dobbiamo fare politica allora probabilmente si è aperto un mondo dove ci si è resi conto che si andava allo scontro si andava allo scontro perché non si può chiedere di approvare un bilancio di cui non sappiamo cosa è successo allora io non voglio guardare il passato voglio guardare il futuro capisco che ci sono delle differenze quest'anno è stato un anno di covid è stato un anno difficile stiamo continuando a soffrire però signori la prima domanda che mi viene da fare è questa ma le domande che la struttura del nono municipio ha fatto al Campidoglio quando le ha fatte e mi riferisco chiaramente all'istanza politica perché quando io guardo il documento unico di programmazione come ha detto giustamente il consigliere coci ma comunque chiunque mi ha preceduto negli interventi dobbiamo dare il tempo e la consapevolezza all'amministrazione capitolina che se noi chiediamo 10 siamo in grado di spendere 10 allora se nel documento di programmazione il Campidoglio fino all'ultimo giorno ci ha riconosciuto 100 e in più per quanto riguarda il piano degli investimenti è stato riconosciuto come ogni anno e come e per ogni municipio un milione di livelli minimi di progettazione quindi incarichi di progettazione a professionisti esterni per consentire di realizzare le opere del DUP allora le domande che io adesso riformulo esattamente come le ho fatte ieri hanno necessità di avere una risposta come sono stati spesi questi soldi per consentire di leggere finalmente nel piano degli investimenti 2021 che quelle esigenze rappresentate chissà quando e questo è anche importante possano essere soddisfatte non ci meravigliamo se io vado a chiedere 10 euro e non sono in grado di presentare una progettazione per chissà quale motivo è chiaro che a me quei soldi nel piano degli investimenti non me li possono dare li devono mettere dove è pronta la progettazione e qui andiamo sullo sfasamento temporale allora dunque dopo quello che è successo ieri penso che questo è il motivo per il quale stamattina in commissione apprendo che non potremo deliberare su questo bilancio perché effettivamente c'è bisogno di fare degli approfondimenti benissimo ne prendo atto e chiudo la vena polemica che poi in realtà è politica e vado avanti sulla parte come dire tecnica ovvero se voi avete avuto modo di aprire il documento avete visto che come vi ho anticipato stamattina poi lo dico a Carmen la parte che ti insomma che ti dico adesso te la mando per posta elettronica così io la leggo e tu la puoi direttamente inserire nel verbale senza ammattire con cose così così difficili allora ok grazie dall'analisi comparativa per quadrante e quartiere la sottopongo alla vostra attenzione ieri ho parlato solo di scuole oggi ovviamente c'è anche la sezione dedicata alle strade ed immobili parliamo del titolo 2 ovvero del piano degli investimenti ma comunque le domande che faccio sono queste uno quali sono gli interventi fatti nel 2020 rispetto a quelli già previsti nel piano degli investimenti 2020 2022 due vorrei conoscere i motivi che hanno originato le differenze tra le due versioni del DUP 30 settembre e 22 dicembre 2020 e piano degli investimenti 2021 2023 dato che sono passati pochissimi mesi e nel secondo caso giorni dall'approvazione del DUP e sembra che ci sono degli interventi definanziati ed interventi che inizialmente non erano previsti anzi in alcuni casi ci sono delle variazioni inspiegabili proprio tra le due versioni di DUP sembra inoltre domanda numero 3 che nel piano degli investimenti 2021 2023 sono stati anticipati al 2021 degli interventi previsti in anni successivi allora vorrei capire se è vero e per quale motivo perché si può sbagliare e come vi ho detto la non conoscenza aiuta a sbagliare quattro sembra che gli interventi siano stati previsti solo in alcuni quadranti vorrei sapere quale motivo questo si vede con evidenza soprattutto se andiamo a guardare la parte relativa alle strade domanda numero 5 nel piano degli investimenti 2021 2023 e in quello 2020 2022 è previsto come vi anticipavo ogni anno un milione di euro per incarichi di progettazione esterna quelli che vengono identificati come livelli minimi del DUP come mai nonostante tale somma fosse prevista negli anni 2020 2021 e 22 non è stato possibile realizzare la progettazione minima tale da consentire che quanto previsto nel DUP sia quello a 30 settembre che quello al 22 dicembre 2020 potesse essere confermato nel piano degli investimenti 2021 2023 realizzato in un arco di tempo temporale brevissimo 6 come è stato speso il milione di euro che risulta questo appunto annualmente a disposizione dei municipi e quindi anche del nono previsto per l'anno 2020 nel precedente bilancio di previsione triennale cioè 2020 2022 e veniamo agli esempi questi esempi aiutano a capire sono alcuni sono diciamo quelli un po' più eclatanti ma aiutano a capire perché per esempio la sicurezza dei cittadini è uguale per tutti e la pianificazione annuale dei lavori è fondamentale anche perché è una scelta come diceva il consigliere cuoci di natura politica ciò che posso fare nel 2021 2022 o 2023 per esempio scorrendo il prospetto se Manuel dovesse mai riuscire almeno lui perché io non ce l'ho fatta già ieri a condividerlo in diretta perché qui è bravissimo l'assessore Drago a farlo devo dire la verità comunque se si scorre il prospetto coelaborato e chiarire alcune domande per esempio per le scuole relativamente alle prime tre domande che ho posto va spiegato cosa è accaduto per l'intervento antincendio e di adeguamento normativo per le scuole primarie Santi Savarino e Frignani perché dico questo nel piano degli investimenti 2020 2022 era previsto per entrambe per 350 mila euro l'una nel DUP 21-23 l'intervento è stato programmato per il 2021 aumentando gli importi nel piano degli investimenti 21-23 vengono aumentati gli importi viene anticipato il lavoro previsto per la Frignani di un milione che era previsto nel DUP per l'anno 2022 si passa da una versione che prevede 1 milione 273 e 1 milione per gli anni 2021-22 e si arriva a 2 milioni 128 in un solo anno cioè il 2021 nel piano degli investimenti elaborato neanche come dire tre mesi dopo poi in particolare nel DUP elaborato a dicembre la situazione si è modificata è stata eliminata la previsione di rifacimento elettrico delle primarie del 2021 e attenzione qui c'è un passo in più che ha carattere generale perché gli interventi di manutenzione per il rifacimento dell'impianto elettrico quindi adeguamento normativo importantissimo che era previsto ed era stato lasciato diciamo era previsto per le medie in generale e per le primarie è stato eliminato prima per le medie e nell'ultima cosa nell'ultima versione anche per le primarie passiamo alle strade che è un elemento di novità io ho cercato con sintesi e cerco quanto più possibile di non annoiarvi ma è un atto dovuto qui non siamo in consiglio questa è una serie consigliera dall'arrivo cortesemente se può ridurre i tempi altrimenti sforiamo devo ridurre i tempi io posso anche non dirlo allora chiedo scusa Filippo io possiamo rimanere possiamo rimanere anche in altre sette sedute però se mi viene tolta la parola non c'è problema chiedo se come formula io quello che non riesco a dire perché non me lo fate dire lo metto comunque in verbale mi assumo la responsabilità dei contenuti perché il discorso è scritto per non farvi perdere tempo e ve lo sto leggendo parlo delle strade poi mi dite voi se devo tacere ovviamente rispondendomi come fare perché il mio intervento siccome si parla di numeri purtroppo lo dovete ascoltare a me dispiace poi se tu presidente decidi di togliere la parola lo motivi e si mette a verbale parliamo delle strade anche perché c'è qualcuno che ha detto vorrei capire per quadrante adesso ve lo faccio capire non banalizziamo allora per esempio nel quadrante ne vengo a prendere uno perché così si ho cercato di prendere le cose più importanti nel quadrante spinaceto tordecenci nel piano degli investimenti vengono definanziati nel 2021 significativi interventi previsti nel duppo di settembre come quello di via Pontina Vecchia 983 mila viene definanziato l'intervento 2022 di via Rotellini circa 1 milione 150 mila e anticipato al 2021 l'investimento e qui dobbiamo capire perché investimento e perché accade questo per rifacimento di marciapiedi che nel DUP era previsto per il 2023 pari a 650 mila tale anticipo di investimento resta peraltro confermato anche nell'ultima versione del DUP quindi lo spiego anche all'assessore De Noelis va spiegato perché nel quadrante falconiana portamedaglia è stato definanziato tutto l'intervento 2022 di rifacimento del manto di via di portamedaglia tratto Torre Sant'Anastasia Laurentina circa 1 milione 500 che era invece previsto nel DUP di settembre perché è stato prima anticipato dal 2022 al 2021 e poi addirittura eliminato nella versione nuova del DUP il rifacimento dei tratti di strada fuori alla scuola formato per 210 mila euro per chi ci passa è allucinante va spiegato cosa è successo nel quadrante di fonte meravigliosa nel piano degli investimenti viene definanziato l'intervento 2021 di rifacimento manto di via gradi e via della fonte meravigliosa è ridotto l'importo 2021 di rifacimento tratti di via arcidiacono da 844 si passa a 600 mila nella nuova versione del DUP viene tolta la previsione 2021 sentite qua per il rifacimento tratti di via arcidiacono 844 mila qualcuno ha capito che è successo io no va spiegato come mai a fonte l'Aurentina viene inserito nel 2023 il rifacimento tratti del manto di via amaldi 981 mila euro che nel DUP in entrambe le versioni non era presente va spiegato perché nel quadrante urpapillo cappellaccio viene ridotto l'importo 2021 di lavori di via del cappellaccio da 520 mila euro a 99 mila inserito nel 2021 importo peraltro di manutenzione di viale oceano indiano 787 mila che invece perdonate l'ignoranza ho visto che era stato già previsto per il 2020 va spiegato perché nel quadrante Pavese Ferratella viene definanziato dal piano degli investimenti l'intero importo 2021 e 2023 per l'ex palestra immobile via commisso 23 adeguamento dei locali ad archivio cartaceo a servizio del municipio Rovanove 500 mila euro e adeguamento normativo 1 milione e 200 mila per le scuole ditemi voi se volete ve lo dico non ve lo dico ma comunque oltre ad avere definanziato quelli che erano gli interventi che vi dicevo ho notato dunque una cosa che mi ha letteralmente lasciato senza parole va spiegato vi leggo solo questo il resto l'ho detto ieri e lo ripropongo stamattina ma non vi rubo tempo perché il presidente almeno in gran parte mi ha detto che c'eravate va spiegato perché è stato definanziato il progetto del 2022 di adeguamento della scuola formato progetto 06 per 1 milione e 500 mila euro questo a titolo di esempio ma ce ne sono tanti altri che dall'osservazione di quel prospetto che vi ho presentato si vede poi c'è qualcuno che ha parlato di percentuali tipo di incidenza degli interventi è vero ci sono dei quadranti che non hanno visto nulla eppure le strade sono danneggiate ovunque allora guardatevi se volete le percentuali i numeri non aiutano molto ho fatto le percentuali di attribuzione tra il vecchio DUP e il piano degli investimenti solo per l'anno 2021 per i quartieri ripartito per quadranti l'ho fatto sul nuovo DUP ripartito per quadranti e l'ho fatto in generale diciamo come piano di investimenti in sintesi si vede in modo molto evidente che ci sono stati degli investimenti andatevi a vedere le ultime tre colonne di previsione e per chi dice ma Tallarico come mi è stato detto ieri dall'assessore hai sbagliato hai guardato le 1054 pagine che sono praticamente superate perché il DUP è stato aggiornato a dicembre eccetera io vi voglio dire che dalla comparazione dei dati in realtà le modifiche hanno riguardato in pratica in decremento aspettate che ve lo dico eh in decremento uno due tre quattro quattro interventi per il 2021 cinque interventi ed è stata fatta incredibilmente un'aggiunta che qualcuno mi può anche spiegare come è possibile perché neanche c'era nel DUP un'aggiunta di 300 mila euro per l'adeguamento della scuola dei Lilla signori se tutte queste domande allora riusciamo a dare risposta io ho terminato ho terminato perfetto ma se non riusciamo a dare risposta qualcuno mi dice come lo vota questo bilancio non diamo la colpa al Campidoglio se non chiariamo le date in cui sono state formulate le richieste dal municipio e la modalità con la quale sono stati eseguiti i progetti io ho terminato grazie grazie sicuramente ha fatto un'analisi approfondita di eh molti molte molte tematiche eh che riguardano soprattutto eh in questo caso i lavori i lavori pubblici eh qui presente sicuramente c'è l'assessore De Novellis quindi se lui vuole dire un qualcosino come assessore ha il bilancio eh vuole rispondere a qualche domanda anche di natura tecnica si posso rispondere sicuramente 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 no no aspetta un secondo l'assessore sicuramente sicuramente c'è eh c'è la possibilità di ripetere anche alcuni quesiti eh qualora non fossero i vasi adesso dall'assessore De Novellis giovedì in commissione lavori pubblici con l'assessore competente eh sicuramente eh ha fatto un lavoro eh importante eh io resterei sul discorso del eh del piano di riguardo il titolo secondo eh stiamo parlando sul semmai sul discorso del degli investimenti che ci sono quest'anno partendo dal presupposto che eh purtroppo o per fortuna quei pochi soldi che ci sono stati dati sul titolo secondo a partire dagli anni dal 2016 2017 insomma quando sono cominciati ad essere un pochino più cospicui purtroppo non sono sufficienti a eh sanare tutte le necessità dell'intero municipio quindi in qualche modo delle scelte vanno sicuramente eh fatte eh sicuramente sono delle scelte che nascono da esigenze che la direzione tecnica ha raccolto insieme al lavoro alle segnalazioni della polizia locale insomma ci sono una serie di eh secondo me parametri eh attraverso i quali poi viene indicato un tipo di intervento rispetto ad un altro cercando sempre di dare eh una massima uniformità eh negli interventi su tutto il territorio resta il fatto che l'indirizzo politico sicuramente è stato dato rispetto alla necessità di eh rifare eh comunque le strade e eh cercare di andare a eh come dire a compensare le necessità delle scuole quello che mi sento dire è stato sicuramente un indirizzo di natura politica che riguarda le scelte sul titolo secondo poi eh i vari cambiamenti di progetti e cose varie in natura un pochino più tecnica lascio rispondere ai tecnici perché eh posso sicuramente eh non dare le risposte corrette è un lavoro piuttosto importante potrebbe essere un punto di partenza per eventuali eh osservazioni da parte della commissione quinta ma non solo anche delle altre commissioni e e niente la ringrazio sicuramente i consiglieri e gli assessori lo potranno eh utilizzare e lascio la parola all'assessore di Novellis se vuole rispondere in qualche in qualche modo e proseguiamo con gli altri interventi perché ho visto che oltre ai consiglieri si è anche aggiunta una cittadina in questo caso penso in qualità di comitato di quartiere che voglia intervenire l'avvocato canale eh quindi quando io l'ho interrotta era per dire cerchiamo di essere coincisi perché in questo modo facciamo e diamo la possibilità a tutti di poter intervenire ricordiamoci che eh eh stiamo lavorando così eh in modalità un pochino particolare per esigenze che conosciamo quindi anche gli uffici cerchiamo di agevolare il lavoro del nostro personale quindi per quanto riguarda il suo intervento se vuole rigirare il file appunto al nostro al nostro staff di segreteria lo può fare e lo metterà verbale come suo intervento grazie e prego assessore allora Presidente lei ha detto che sono stati dati pochi soldi al municipio ho capito bene ho capito male sugli investimenti titolo secondo ho detto che nel corso del tempo sono stati dati 43 milioni per me non sono pochi fino ad oggi sì non sono pochi ma ho detto sicuramente rispetto al passato non sono sufficienti ho detto ah ecco non sono pochi cioè quanto statisticamente non sono pochi vabbè giusto per fare una battuta allora io capisco la consigliera Tallarico anche c'è l'avvocato canale sono giorni che mi chiedono perché avete modificato il DUP il DUP è stato modificato hanno abbassato i valori delle cifre perché probabilmente la parte dei lavori pubblici non ha ritenuto di dover finanziare tutto quanto quindi via Gradi io parto a bomba via Gradi era finanziata nel 2021 nella previsione era finanziata pure Arcidiacono erano 844 mila e nel 2021 sono diventati sono stati abbassati purtroppo io non ho partecipato alle riunioni di lavori pubblici perché non è mia come consigliere Filippo non è che partecipa quando si decide come spostare e fare se e quando una strada però se non sono più via Arcidiacono per esempio era 800 mila consigliera Tallarico la risposta è erano 800 adesso sono diventati 600 perché hanno spostato una parte da un'altra parte probabilmente non so questo non glielo confermo però magari è stata richiesta l'altra parte che manca nell'anno successivo oggi non ho evidenza di questo però se sono sono così sì nel DUP non ci sono più quelle opere punto è stato modificato è stato spostato in un'altra annualità quindi questa è la situazione del continuo chiedere perché il DUP è confrontare i confronti che fa lei sono legittimi poi le domande che fa le risposte gliele può dare l'assessore e gli uffici tecnici già c'è stata una commissione non so se l'hanno avvisata se ha letto il calendario ci sarà un'altra commissione ancora sui lavori pubblici e spero che la mia collega sicuramente la mia collega gli uffici le daranno tutte le risposte che là siamo in ambito di lavori pubblici perché lei chiede in una commissione bilancio possiamo giustamente parlare di poste di bilancio di esigenze ma non possiamo parlare del perché una strada è stata è stata spostata da una parte ad un'altra quindi nel corso dell'anno abbiamo certo che possiamo eh? perché non possiamo? certo che possiamo e questo è il nostro lavoro quale? quello di spostare strade poi risponde per favore se no così entriamo in un dibattito nulla contro di lei però poi ha tutta la facoltà di rispondere grazie certamente e quindi livelli minimi di progettazione quindi se le opere sono previste nel DUP e devono andare a finire nel piano investimenti consigliera questo è previsto dalla dalla 118 quindi se le opere sono nel DUP e devono andare nel piano investimenti si possono finanziare con il milione il milione è stato poi che avevamo l'anno scorso è stato poi rimodulato a favore di altre opere non credo che ci sia proprio la corrispondenza uno a uno perché più volte me l'hanno chiesto non credo che ci sia la corrispondenza il milione messo da un'altra parte forse le hanno ripartite sono andate ripartite in più opere quindi complessivamente queste queste sono le risposte poi la distribuzione è reale ma secondo me la distribuzione che chiedono le hanno chieste i nostri consiglieri le chiedete tutti quanti allora non bisogna fare solo la distribuzione delle strade tra l'altro poi qui a mio avviso poiché il municipio è grande e le risorse sono poche è una guerra è una guerra proprio tra poveretti cioè tutti noi abbiamo poche risorse rispetto alle tante alle tante strade non bisogna parlare solo di strade bisogna parlare di strade di scuole non bisogna parlare solo di investimenti bisogna parlare anche del titolo primo delle manutenzioni che vengono fatte quindi se qualcuno non ce l'abbiamo io non sono attrezzato per distribuire sul territorio ma andrebbero distribuite non solo gli investimenti di 5 anni ma anche le spese fatte le manutenzioni fatte alle varie scuole poi per quanto riguarda tutte le domande che ha fatto la consigliera Dallarito come le ha fatto di me scusami eh chi ha parlato io Crescenzo se sono distribuiti in che senso distribuiti in forma reale sul territorio qualcuno diceva come sono stati distribuiti per quartiere allora per distribuire cioè non sono attrezzato a prendere sarebbe da prendere tutte le spese correnti quindi le manutenzioni fatte alle strade ordinarie manutenzioni fatte agli edifici manutenzioni fatte alle scuole sarebbe da prendere anche database degli investimenti e redistribuirlo io purtroppo non ho avuto né la capacità né la forza di farlo questo tipo di lavoro forse il comune di Roma ha sì il comune di Roma ha il sito delle strade rifatte ma io avrei messo anche eh la distribuzione eh della spesa corrente quindi questa è questa è tutta la situazione le altre risposte le vengono date nell'altro nell'altro ambito io non ehm l'analisi che ha fatto la Talla Rico è corretta ma eh la risposta precisa e puntuale va data nell'ambito eh dei lavori pubblici quindi se vogliamo andare non lo so io ho finito presidente poi mi dica lei sì sì ok perfetto presidente mi dica lei se dobbiamo andare avanti con la commissione del bilancio perché anche ieri a un certo punto poi la commissione ha preso eh diciamo eh la commissione del bilancio è finita e si è parlato di lavori pubblici anche oggi eh vedo che stiamo facendo questo fatemelo sapere perché nel caso eh fatemelo sapere cioè aspetto vostre indicazioni grazie ok c'era l'intervento ora non so se è prima di Cagliardi o di Cuoci e se ci sono poi altri consiglieri prego fate voi chi de due prima Manuel dimmi tu prego cuore vado ah no non ho visto quindi era per questo di chiedere no io sarò veramente telegrafico sempre per quello che è possibile con una materia così spinosa come quella del bilancio allora ci si chiedono proposte dove allocare dei soldi in più sulla spesa corrente bene allora qualcuno forse le proposte sono semplici pensiamo che nell'ambito dei servizi sociali non si possano creare dei fondi in più per il sostegno alle persone che non potranno pagare più l'affitto nel 2021 eh pensiamo che per esempio non si possa fare un fondo proprio per aumentare la possibilità di acquisto di pacchi alimentari per il 2021 pensiamo forse che non si possa aumentare qualcosa in più sulla cultura e sullo sport che sono praticamente morti in questo municipio non si riesce a fare una iniziativa diciamo che possa racchiudere le associazioni la consulta e quant'altro su questo territorio pensiamo che qualche soldino in più sulla manutenzione stradale non ci possa servire pensiamo cioè io potrei continuare creare un piccolo fondo anti usura municipale per tutto quello che sta accadendo con la chiusura dei negozi chi si indebita chi non ce la fa più pensiamo che per esempio un piccolo concorso di sostegno alle start up del territorio non si possa fare le proposte ci sono bisogna capirci fin dove ci vogliamo spingere e dove vogliamo arrivare insieme insomma se qualcuno ci chiede le proposte ne abbiamo quante e come ne volete detto ciò questo è sul titolo primo poi io le formalizzerò chiaramente queste proposte sulla spesa corrente per quanto riguarda il piano degli investimenti è molto semplice non c'è per esempio un investimento concreto sul rifacimento del verde stradale di questo municipio cioè ci sono intere strade che ci hanno alberi ormai che sono stati abbattuti di cui non si vede la risistemazione ad alcun titolo penso per esempio che si siano frannate praticamente chiuse al traffico per giorni ieri la laurentina all'altezza di cinque colline via di portamedaglia ha subito delle frane pensiamo che non si possa investire per rimettere a posto queste strade ed evitare che ciò riaccada pensiamo per esempio che abbiamo votato per fare un filobus con un percorso che arrivi a Tricoria c'è chi lavora in un altro modo non pensiamo per esempio di dare seguito a quello che abbiamo detto e di finanziare magari un nuovo progetto pensiamo per esempio che non si possa ad alcun titolo come diceva Cagliardi rimettere a posto la situazione delle scuole di Torino Mezzocammino e di capire che cosa succede su quei parchi pensiamo per esempio che tutte le strade del municipio siano rifatte pensiamo che se non si fa lo stadio non sia meritevole un progetto di recupero ambientale Lanza del Tevere eccolo il titolo secondo cioè di proposte ne abbiamo e ne ho fatti solo degli esempi insomma così quante ne vogliamo e ritorno a dire ci sarà un momento in cui li formalizzeremo detto ciò però siccome l'analisi della consigliera Dallarico è molto puntuale e ancora vedo che non riceve risposte io le avanzo io una proposta della consigliera Dallarico anche per non mandare sprecato diciamo l'ottimo lavoro che ha fatto e cioè siccome io temo perché il gap e il buco sostanzialmente fra settembre e dicembre dove non si capisce chi abbia agito e come per apportare le modifiche proponga cioè non non metta verbale quel suo intervento questa sua analisi ma proponga che oggi stesso in commissione si possa votare un ritorno magari al documento di settembre e così si lavorerà su quello sulla proposta di consiglio gli uffici ce lo riaggiorneranno domani voteremo la delibera con la proposta andiamo in votazione cioè diamo mandato agli uffici di lavorare su questo io non mi accontenterei di metterlo a verbale votiamolo concluso oddio che succede io ho concluso nulla prego consigliere Cagliardi grazie velocemente allora prima mi perdonate mi sono dimenticato di fare una domanda che invece avevo avanzato ieri sul titolo primo in questo caso perché giustamente l'ufficio scuola alla mia richiesta mi ha reindirizzato verso la parte dell'economato o comunque sia la parte degli acquisti la mia domanda era di questo tipo attualmente le nostre educatrici e le nostre maestre nella scuola dell'infanzia nella scuola dell'asilo sono dotati di mascherina così come da disposizione di PCM e quant'altro mascherina chirurgica visiera e quant'altro io chiedevo data la particolarità del settore visto che i bambini sono privi di qualsiasi dispositivo di protezione visto che è chiaramente necessario il contatto ravvicinato e vi dicendo se era possibile valutare l'acquisto di mascherine DPI perché le chirurgiche non sono DPI in questo momento ma quindi le FFP2 e le FFP3 per le nostre educatrici e le nostre maestre in tal caso volevo chiedere se era possibile avere una valutazione economica dell'acquisto se avevamo già fatto acquisti di questo tipo per poter poi procedere ad un emendamento e quindi eventualmente far appostare a bilancio la sorda necessaria a fornire le nostre educatrici e le nostre maestre di questi dispositivi quindi colgo l'occasione per ribadire questa domanda che già ho fatto ieri perché oggi so che c'è l'ufficio completato o nel caso insomma indicatemi le modalità per richiedere questa informazione per quanto riguarda l'elaborazione che veniva chiesta da Crescenzi che giustamente è stata rilanciata anche da collega cuoce eccetera il Partito Democratico sta lavorando a delle proposte di integrazione tanto del titolo primo o quanto del titolo secondo del bilancio e assolutamente mi verrebbe a dire una cosa diciamo perdonatemi io ho sempre questo fraseggio con l'assessore ma evidentemente apparteniamo a mondi culturali differenti io non riesco a capire la ragione del perché oggi che ci troviamo a disquisire del bilancio che è l'asse portante di tutto quanto il lavoro del municipio che permette di come dire realizzare o non realizzare qualcosa non si possa scendere nel dettaglio perché abbiamo un adempimento dobbiamo votare cioè noi non votiamo il bilancio in quanto tale non c'è questa passione ma mi hai detto che non possiamo scendere nel dettaglio mi scusi l'hai detto tu Roberto l'hai detto prima dicendo perché questi qua sono lavori pubblici io di questo no ho detto allora non funziona così il perché della allora la razza del lavoro pubblico lo diremo nella commissione lavori pubblici oggi parliamo del bilancio dei numeri e quindi di tutto ciò che poi mi è stata fatta la domanda perché non hai fatto questa strada e non questa va bene questo ce lo deve dare il lavoro pubblico Manuel non sbaglio allora se un consigliere dice una priorità politica perché quello che noi facciamo è esattamente questo al di là delle segnalazioni tecniche che ci vengono sulle emergenze ma c'è una priorità politica che viene ribadita si traduce in un atto politico qual è il bilancio oltre a essere anche un atto necessario per legge di dove ci siano gli obbligi eccetera proprio per indirizzare il percorso cioè oggi il comune di Roma facciamo finta investe su autobus green con il CNG e tutto il resto piuttosto che quelli a carboncock perché fa oltre alle ragionevoli scelte ambientali di natura giuridia anche delle scelte politiche è quello che stiamo dicendo quando si obietta la polarizzazione della spesa su un quartiere piuttosto che diversi interventi su tutto il territorio non si sta dicendo che si è sbagliato perché sicuramente quel quartiere aveva bisogno di quell'intervento ma quando noi ribadiamo la necessità di fare interventi in luoghi altrettanto meritevoli di intervento stiamo facendo una relazione politica è questo cioè noi non siamo tecnici noi siamo politici altrimenti non ci troveremmo staremmo dentro l'amministrazione con altri ruoli è questo il punto su cui volevo richiamare tutti quanti quindi concludendo velocemente io penso che già nella giornata di oggi forse di domani il Partito Democratico farà avere così come è stato fra l'altro stabilito ieri in conferenza dei capigruppo le nostre considerazioni in tal senso e mi voglio augurare che nella prossima che ci sia una prossima commissione di lancio proprio su questo per poter valutare quanto avanzeremo noi e quanto avanzeremo tutti gli altri gruppi a questo punto però vorrei formulare la richiesta di ascoltare i cittadini se c'era qualche intervento perché ho visto delle mani alzate perché ritengo che arrivati a questo punto possa essere anche utile proprio nella formulazione di queste ulteriori richieste grazie grazie consigliere Cagliardi allora nell'ordine io vedo c'era l'avvocato canale però come dicevo prima mi permetto di lasciarla di scavalcarla e far intervenire i consiglieri crescenze e tallarico e poi se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri iniziamo ad ascoltare i cittadini perché come avevo detto all'inizio e come ha ribadito anche il consigliere Cagliardi vanno comunque ascoltati soprattutto in una fase di dibattito e di confronto su questa tematica del bilancio che potrebbe comunque essere perché no di supporto anche ad eventuali osservazioni da parte del municipio come amministrazione appunto in sede di bilancio quindi consigliere che scienze e poi consiglierà dalla vivo grazie grazie presidente sì rapidissimamente così diamo una risposta certa al consigliere Cagliardi che chiedeva all'inizio commissione gli uffici per gli amministrativi dell'istituto comprensivo già ci sono non mi risulta che siano necessari nuovi uffici amministrativi al netto di questo poi è vero siamo politici facciamo politica però abbiate pazienza ma facciamola anche bene cioè tutto quello che ho sentito rispetto in particolare al titolo primo e cioè guardate che lo possiamo rimpinguare per fare queste x o queste n cose in più o ad abundanziam allora lo sappiamo però come funziona il titolo primo l'ho detto anche nel mio precedente intervento io sulla base di quelli che sono i servizi che erogo e di quelli che sono i servizi che erogo non sulla base storica ma sulla base dei nuovi indirizzi politici che vengono dati dall'aula creo o richiedo nuovi fondi o creo nuove poste in bilancio e così viene fatto da sempre e così è stato fatto per questo bilancio in particolare questa questione coggente ok per quanto riguarda la questione che diceva possiamo chiedere dei fondi affinché ci dotiamo noi di nuovi pacchi procediamo direttamente in autonomia senza il sostegno della regione per dei nuovi pacchi alimentari e via discorrendo allora forse non si è capito non si è capita a pieno la situazione attuale cioè se io devo avere il pareggio devo raggiungere il pareggio di bilancio ed io ho una diminuzione delle entrate che è epocale per via della situazione in cui mi trovo adesso come mi può venire in mente di chiedere addirittura prestazioni in più rispetto non solo allo storico ma anche rispetto agli indirizzi politici che vengono dati ora capisco che c'è un'emergenza e capisco che c'è una cogenza ma io ricordo che c'è stato un anno in cui furono chiesti circa 45 milioni di euro in più nel piano investimenti e sinceramente io come tutti gli altri miei colleghi mi pare certo uno decidemmo di rigettare quella proposta perché perché è inverosimile allora io questo voglio dire facciamo politica però facciamola in maniera dico quanto meno verosimile colleghi non andiamo a chiedere la luna perché è irraggiungibile all'attualità ok lo era ieri figuratevi in questo momento rispetto a quando nel 2018 se non sbaglio vennero sbloccati circa 300 milioni di euro di spazi di finanza per poter aumentare gli investimenti attraverso l'accensione di mutui perché secondo quelle che sono che sono i dettami normativi avevamo la possibilità avevamo questo nuovo spazio di indebitamento perché era sostenibile coprirlo oggi quest'anno ne abbiamo circa 440 milioni vado a memoria non c'ho sotto gli occhi il dato e sulla base di questo abbiamo visto negli anni un importante direi quasi imponente incremento del piano investimenti anche per quanto riguarda la questione non degli areniti delle ansie del fiume mi risulta che siano stati stanziati circa 300 milioni per questo tipo di progettualità in assoluto non solo ma comunque la riqualificazione di un'area deve avere dei requisiti dei requisiti che siano oggettivi cioè ci sono Anse del Tevere che vale la pena riqualificare e ci sono altre aree dove sono magari infattate da urbanizzazioni o da insediamenti industriali dove magari non ne vale la pena riqualificare perché non potrebbero comunque essere fruite quindi insomma ci sono tutta questa serie di considerazioni e al netto di tutta questa serie di considerazioni quello che mi sento di ribadire nuovamente è se vogliamo mettere mano a qualcosa ritengo che sia opportuno farlo nell'ambito del titolo secondo al netto di quelle che sono eventuali nuove esigenze adesso ascolteremo anche i cittadini scusate che si sono promotati dopo di noi e sulla base anche delle loro richieste evidentemente potremo valutare quello che si può aggiungere considerando comunque che per aggiungere qualunque tipo di investimento all'interno del titolo secondo occorrono i livelli minimi di progettazione quindi dovrà essere poi anche la direzione tecnica a dirci se è o meno fattibile questa richiesta la situazione è questa io mi sento di dover essere comunque estremamente chiaro quando si parla di bilancio sinceramente non capisco determinate richieste come possono essere formulate come si possono poi inserire nella realtà dei fatti e delle cose anche io vorrei chiedere molto di più però c'è anche un'oggettività delle cose bisogna essere serio in questo senso grazie io vorrei segnalare che il comune di Roma sta spendendo 30 milioni di euro per fare la funivia di Magliama parliamo di questo ma chi è che parla prego prego infatti prego consigliere come ho detto al consigliere Quaci prima grazie senza che si crea un dibattito grazie consigliere Crescenzi consigliere Tallarico e poi se non ci sono altri interventi dei consiglieri ascoltiamoci prego sì mi interessa sentire anche gli altri mi scuso se intervengo nuovamente allora la prima questione è questa una replica al consigliere Quaci per la questione dell'emendamento che deve tenere conto di votare in base a quello che era previsto nel DUP al 30 settembre né meglio no perché lì non è chiaro il metodo di come sono state fatte le ripartizioni annuali e le attribuzioni in questo caso su territorio quindi il problema si è traslato dal 30 settembre al 21 dicembre purtroppo non è ancora stato chiarito quindi è ballerino il documento su cui noi ci basiamo oggi per capire che cosa succede ma è un'ottima base di partenza l'altra cosa che vi volevo dire sono molto preoccupata per quanto riguarda la decisione di rimandare ad altra data la votazione della delibera di bilancio di previsione finché non vedo perdonatemi ma devo essere chiaramente severa perché la mia preoccupazione oggi è veramente grave vista la quantità di risposte ancora non pronte non vedo una disponibilità del Campidoglio a dare con una nota formale evidenza di quando andranno in aula in assemblea capitolina vorrei evitare che simuliamo per errore l'avvio di un processo partecipato per chiarire tutte le questioni che sono ahimè dolorosamente emerse potere porre riparo a quello che è purtroppo emerso e poi arrivare tardi in municipio e per portare in aula in Campidoglio un risultato concreto che almeno è quello che come consiglieri stiamo cercando di portare avanti per quanto riguarda quindi la questione del Campidoglio chiudiamo comunque questa commissione dove qualcuno ci dà questa certezza se no stiamo perdendo tempo io non ho voglia assolutamente come voi di rubare più tempo a nessuno e per quanto riguarda voi la questione dell'intervento delle scuole vi ripeto che per il titolo 1 dove non ho avuto tempo per dirlo per dirlo prima ma sono due righe sempre a fine di votare consapevolmente il bilancio di previsioni 2021-2023 io già ieri ho chiesto sia per la parte in capo alla direzione socioeducativa che alla direzione tecnica che non c'era ho espresso il desiderio di sapere 1 qual è il cronoprogramma degli interventi previsti per l'anno 2021 2 conoscere le criticità ad oggi non risolte 3 sapere se le previsioni nel bilancio di previsione sono in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dai competenti uffici municipali per dovere di correttezza in quanto io prima ho trasmesso il verbale completo del mio intervento a Carmene non vorrei creare delle difficoltà rispetto alla verbalizzazione prego ho terminato sono stata velocissima ve l'avevo promesso grazie grazie consigliera Dallarico rapidamente mi sembra che sull'ultima parte che lei adesso ha menzionato che dalla diciamo così dalla relazione anche dell'assessore alla scuola gli uffici che erano presenti mi è sembrato di capire comunque le esigenze erano diciamo così coperte dalle poste in bilancio qualora non fossero state comunque garantite le eventuali coperture come dire come si è fatto in ogni volta si andranno a richiedere tramite l'allegato A che come ha detto l'assessore non è nulla di esistente non è un documento ma è ciò che creiamo noi e quindi verranno inserite lì quindi le avremo eventualmente non appena questo diciamo così l'allegato A sarà pronto al netto di questo io mi sento di dire che a seguito di tutte queste serie di commissioni che sono state fatte a seguito di anche questa parte di commissione come dire istruttoria da quello che ho capito c'è un'esigenza di andare a confrontarsi su questo bilancio tra tutte le varie forze politiche che sono sedute su questa commissione e non solo ma del municipio e cercare di capire dove eventualmente possiamo andare a proporre delle osservazioni che per questo consiglio del nono municipio potrebbero essere necessarie in questo bilancio soprattutto nell'anno 2021 al netto di tutte le diciamo così necessità e criticità sulle varie dagli uffici eventualmente ci sono anche una serie di proposte che tutte le forze politiche in campo vorrebbero mettere sul tavolo di diciamo così della commissione quinta o comunque del consiglio stesso quindi mi auguro che sono contento di quello che stava dicendo il consiglio di Cagliardi che per quanto riguarda il PD sta elaborando una serie di proposte quindi mi sento diciamo di sottolineare di tutte le forze in campo di far arrivare ora non so chi al presidente del consiglio all'assessore al bilancio alla commissione quinta vedete voi insomma i vari assessori tutte le varie proposte che vorrete mettere in campo insieme magari a quelle che nascono anche dalla maggioranza e per arrivare poi a venerdì a questo punto nella commissione quinta per dare un esito un parere e un parere su queste proposte che poi verranno messe in campo al netto di questo mi sembra che c'era vedo Maesano mi sembra vedo sì il consigliere Maesano che non è ancora intervenuto Crescensi non so se vuole rispondere poi lascerei la parola Presidente io veramente per un telegramma guardi ok allora Crescensi rapidamente poi Maesano e poi in ordine l'avvocato canale e la signora Pulito ribadisco super rapido a tot entrate mi devono corrispondere tot uscite perché se no il gioco non gira ok bene al netto di questo ci sono criticità sì sono quelle che sono state enunciate dagli assessori nelle precedenti commissioni sono note sono state chieste è stato chiesto già di poter far fronte a queste criticità di nuovo la risposta è ancora una volta sì anche questo è stato detto attraverso cosa attraverso la richiesta di maggiori fondi a copertura dei servizi che dobbiamo erogare quindi su questo ripeto io personalmente non vedo questioni ancora ulteriori da da dover affrontare e rimane in piedi la questione del titolo secondo ragioniamo su quello sempre però avendo chiaro in mente quello che ho detto prima che non ripeto perché appunto deve essere un telegramma grazie chiaro consigliere Crescenzi consigliere Maesano prego sì grazie presidente volevo chiedere solo un paio di punti molto velocemente allora riguardo il discorso alla richiesta se il campidoglio ci ha dato più tempo se c'è tempo eccetera c'è una precisa lettera inviata dalla sindaca il 31 dicembre pomeriggio girata prontamente dal presidente Cerisola in cui si dice che il bilancio in l'assemblea capitolina non sarà votato prima del 15 gennaio ergo avete più tempo questo per chiarirlo un po' a tutti ma comunque la lettera è stata inviata a tutti i consiglieri secondo a seguito di tale lettera sono state fatte delle richieste sia di maggioranza sia di minoranza mi spiace che qualcuno non lo sapeva in capigruppo ovviamente sono state fatte queste richieste ognuno appartiene a un gruppo politico ognuno c'è un capigruppo se poi non dialogano non può essere colpa della maggioranza sono state fatte richieste di ulteriori commissioni sia da parte della maggioranza infatti c'è una commissione di bilancio in più sia dalla parte della minoranza ora non ricordo esattamente quello gruppo politico che l'ha chiesto le commissioni di giovedì però sono state fatte apposta per meglio studiare il bilancio meglio analizzare il bilancio e meglio dettagliare il bilancio su richieste delle minoranze dispiace che qualcuno non lo sapeva e che adesso si lamenta è stato fatto appositamente per lavorare meglio sul bilancio abbiamo qualche giorno in più sfruttiamolo questo è stato detto per cui niente semplicemente questo spero che si possa lavorare serenamente che si portino poi i vari temi nelle prossime commissioni in maniera costruttiva grazie grazie consigliere maesano allora avvocato canale prego una precisazione come al solito in teoria diciamo gli interventi degli ospiti non possono essere verbalizzati se non sono stati invitati ufficialmente quindi ci dovrà essere qualcuno che farà proprie diciamo gli interventi del di chi sta intervenendo qualora si voglia che vengano messe a verbale questo era per dovere di cronaca prego grazie presidente io poi rispondo anche all'assessore De Novellis visto che mi ha chiamato in causa io risponderò intanto uno prende atto del fatto che c'è stata la pandemia e che ci sono diminuzioni di bilancio e di voci di bilancio d'ingresso e quindi anche poi di poter spendere da parte del comune nessuno non prende atto però poi dopo non è che poi si può fare una valutazione per cui ci sono dei progetti di prefattibilità che dovevano essere fatti per il 2023 e vengono invece finanziati nel 2021 e poi ci sono degli interventi previsti nel DUP sia di settembre che di dicembre assessore De Novellis che non vengono proprio finanziati nel vostro piano di investimenti e perché per esempio faccio l'esempio di via Gradi ma non è solo via Gradi perché non lo so lo dovete spiegare voi perché non è stata fatta la prefattibilità dagli uffici va bene e dopo che io mi sono sentita dire dall'assessore Maiolati in sede di commissione a settembre che gli interventi dei marciapiedi non potevano essere fatti nel mio quartiere ulteriori rispetto a quelli fatti e finanziati nel 2018 ma realizzati nel 2020 dei pezzetti di marciapiede e per la verità è poi intervenuto sul marciapiede perché è caduta da una signora che ovviamente ha sporto denuncia e si è fratturata al naso e tutta la faccia ok e praticamente non potevano essere fatti perché andavano fatti prioritariamente quello delle strade strade da noi segnalati da gennaio 2019 quindi stiamo parlando di strade che erano nel dupo perché erano da interventi richiesti da noi con materiale fotografico cioè il trattamento della polizia locale dal 2019 non da oggi ha capito assessore quindi sono nel dupo e ci sono ancora e non si sa perché non sono nel piano di investimenti e questa è la differenza previsti nel 2021 nel dupo ha capito mentre altri interventi previsti nel dupo nel 2023 sono stati fatti progetti di prefattibilità inseriti nel 2021 nel piano di investimenti voi dovreste spiegare questo dovreste spiegare ai cittadini perché non è che siamo deficienti completamente ha capito quindi siccome io ho mandato ieri sera una lettera protocollata una diffida dove ho chiesto l'intervento come ente proprietario delle strade sulle strade di via Stefano Grati via Edgardo Mandalena e via Ponte Mravigliosa che sono delle strade che erano previste nel dupo oltre a via Arcidiacono che è prevista però nel piano di investimenti allora sto chiedendo di rinserire gli interventi che c'erano che poi venga diminuito l'intervento di via Arcidiacono nel dupo 844 a 600 vuol dire che l'ufficio tecnico ha valutato che 600 mila euro bastano io non sono un tecnico e quindi da questo punto di vista non penso di poter fare il ruolo dell'ingegnere ma non posso però ammettere leggendo le carte che vengono finanziati nel 2021 interventi del 2023 con la prefattibilità fatta mentre ci siano degli interventi che erano previsti nel dupo nel 2021 che non vengono finanziati e non c'è la prefattibilità mi dispiace ma questo è inammissibile per un cittadino inammissibile è passato altri adi altre situazioni tipo via Casalezzola che avevo chiesto di rifarlo è privata non si può fare va bene quei fondi che erano stati stanziati al Campidoglio avevo chiesto che venissero comunque utilizzati nel quartiere mi è stato risposto dalla Maiolati che sarebbero stati utilizzati per altri quartieri a me sta bene tutto però basta adesso veramente basta grazie poi vorrevo chiedere all'assessore Nero Velliz anche la copertura del mercato visto che non l'ho trovata se c'è in questo punto mi dica dov'è nella voce perché io non l'ho trovata grazie mi dispiace che mi metta a leggere i documenti purtroppo ho questo vizio di andare sul sito del comune e leggere tutti i documenti che ci sono grazie devo rispondere posso rispondere se vuole per l'assessore certo assolutamente bisogna chiedere scusa all'intervento eh no Presidente no Assessore mi perdoni mi rispondo e volete parlare solo voi no Presidente chi ti prende la parola maesano consigliera Dallarico consigliera Dallarico per favore facciamo rispondere ha chiesto di rispondere l'assessore poi se vogliamo intervenire interveniamo per fare l'intervento proprio per la verbalizzazione non sono contenuti e forma per il verbale ok Carmen quindi grazie ne prendiamo atto per il verbale prego Assessore De Novellis allora ho sentito l'intervento della canale dell'avvocato canale con molta vehemence fatto con molta vehemence allora ci ha detto mi dovete dire mi devi dire mi devi dire va beh lo diciamo noi siamo democratici allora poi mi devi dire la copertura intanto io non devo dire niente a nessuno dunque noi rispondiamo alla collettività e gestiamo la municipalità allora intanto avvocato canale se legge le carte vado a vedere che la copertura del cosiddetto mercato di cui noi non ci vantiamo noi non andiamo dicendo in giro le cose se lei legge peccato non si è letto il bilancio 2020 la copertura è stata è stata fatta alla DD ed è in io lo dico ai cittadini ma tanto i cittadini qui purtroppo non sono tutti è stata finanziata è stata bandita e sta per essere affidata in via definitiva quindi gli addetti ai lavori lo sanno lei si legge le carte ma a volte questo pezzo forse l'è sfuggito quindi poi se una spesa viene allora se nel documento unico di programmazione quest'anno tutti quanti siamo diventati ci siamo messi a leggere le carte ma probabilmente le carte vanno pure interpretate quest'anno ci siamo impuntati tutto sul DUP ma il DUP è un elaborato a cui vengono messe le mani di continuo e mica lo vi diciamo neanche i consiglieri lo sanno di continuo lo modifichiamo quindi le cinque righe che riguardano il municipio sono generiche poi il DUP è anche descrittivo non è solo numerico Avvocato Canale il DUP è un documento omnicomprensivo comprende tutto non è detto che poi venga finanziato nel bilancio la differenza l'ho spiegato ieri alla consigliera Tallarigo penso che abbia approvato la mia spiegazione la differenza tra DUP e bilancio preventivo quindi io le volevo dire che se una spesa sta nel documento di programmazione non è detto che venga finanziata perché non viene finanziata perché magari gli uffici tecnici non ce la fanno a fare la progettazione perché magari nel frattempo ecco perché dico che la risposta va data nell'ambito corretto noi non possiamo fare i tuttologi oggi qua io non posso fare il tuttologo e dire ah sì abbiamo tolto 200.000 euro da Viagradi perché Viagradi ha il binder oppure è fatta in un certo modo no io non faccio il tuttologo io mi limito a quello per cui sono delegato e quindi vi dico che non è stata definanzata per 200.000 euro e poi domani chiederemo alla prossima commissione chiederemo agli uffici e all'assessore competente perché tecnicamente è stata definanziata magari hanno riscontrato che non andava fatto non è il caso di enfatizzare di arrabbiarsi così e pretendere in una commissione pubblica pretendere delle risposte che sono state date sono state date le abbiamo spiegate le differenze quindi ci tengo a chiarire che noi almeno per quanto riguarda io e altri il presidente e altre persone con cui lavoriamo qui noi lavoriamo in maniera oggettiva noi non andiamo a finanziare il mercato tizio o caio il nostro municipio la nostra amministrazione ed è questa è una delega per cui io agisco direttamente una delle altre delega ne ho diverse il commercio noi abbiamo finanziato 800.000 euro per quattro mercati senza distinzione i soldi che avevamo li abbiamo messi sui mercati ma per tutti i mercati non è il caso di venire qui in commissione a gridare ad aggredire e purtroppo a mio avviso le carte sono state dette male perché il mercato l'abbiamo messo a bando anche gli altri mercati quindi le opere sono state finanziate il DUP non è stato finanziato purtroppo sono state date priorità ad altre cose non è che a fonte l'avvocato canale patteggia per fonte io non devo patteggiare per fonte e devo patteggiare io come i consiglieri qui dobbiamo patteggiare per tutto il municipio il municipio è vastissimo quindi non è il caso di arrabbiarsi come ho detto all'inizio la nostra amministrazione contrariamente al passato io non voglio disprezzare chi ci è stato prima voglio solo dare un ondato oggettivo noi abbiamo messo su piatta la bilancia solo per gli investimenti circa 45 milioni in 5 anni e speriamo che vengano spesi tutti in più ci stanno anche i soldi del bilancio partecipativo in più prima ne avranno spesi 3-4 e tutti con i debiti una parte con i debiti fuori bilancio quindi signori prima di arrivare alle conclusioni affrettate lo dico all'avvocato canale che in alcuni momenti diciamo ho stimato per le azioni che ha fatto concrete sul territorio ma oggi francamente non mi sento di prendermi questa 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 lavata di testa per qualcosa che abbiamo fatto e che magari purtroppo avete interpretato male tra le carte quindi ripeto la copertura del mercato di Vigna Murata è stata bandita le opere che non sono finanziate nel DUP non ha le opere che verranno finanziate e quelle opere che sono state definanziate hanno un motivo per cui probabilmente la priorità è stata data ad un'altra opera ancora più grave qui nel municipio ci siamo mossi per opere per gravità non andiamo a fare le cose qui abbiamo recuperato uno storico di 30 anni di cattiva amministrazione ricordatevelo per 5 anni noi abbiamo amministrato e ci abbiamo messo la faccia questo è il discorso ma questo non è il discorso che dovrei fare io mi fermo qui mi fermo alla parte tecnica grazie presidente grazie assessore chiedo cortesemente però di stringere non alzare i toni perché non è giusto insomma che in una seduta pubblica si alzino i toni cerchiamo di essere sempre costruttivi questo riguarda tutti e nessuno in particolare allora lascio la parola alla signora Pulito e ascoltiamo buongiorno ringrazio tutti per avermi concesso la parola e vi chiedo di perdonare eventuali inesattezze legate alla specificità del linguaggio sono una neofita del bilancio vorrei chiedere un chiarimento che ho già anticipato ieri con una pecca indirittata all'assessore De Novellis a Maiolati Enrico e Tallarico ieri ho appreso con preoccupazione che nel DUP erano previsti 150 mila euro per la scuola primaria di Via dei Finetti per risolvere il problema di infiltrazione dal tetto poi sembra che questi soldi siano stati definanziati quando in realtà per le infiltrazioni sarebbe necessario anche un intervento per la scuola secondaria di primo grado di Via dei Finetti noi abbiamo appunto sono il presidente del consiglio di istituto di questa scuola che consta di 5 plessi due dei quali sono più anziani diciamo e hanno dei grossi problemi di infiltrazioni dal tetto intanto è che nella scuola secondaria di primo grado abbiamo il muschio alle pareti che rendono inutilizzabili spazi preziosi per l'organizzazione della didattica in questa emergenza quindi chiedo nel caso questa informazione risultasse attendibile di reinserire nella previsione di bilancio prossima appunto di reinserire questo stanziamento anche perché poi noi avremmo anche e questo forse come diceva appunto l'assessore De Novelli se competenza dei lavori pubblici però insomma vorrei capire se è possibile anche predisporre questo finanziamento un documento appunto che si è andato a provare noi abbiamo due altri due plessi di questa scuola che sorgono su una curva cieca via Brunetti e per questo motivo diciamo siamo molto preoccupati perché soprattutto nella scuola media i ragazzi vanno da soli e quindi chiederemo il posizionamento di distruttori di velocità proprio per ridurre per fare in modo che gli automobilisti riducano la velocità al ricosso degli ingressi delle scuole e questi distruttori di velocità noi pensavamo che potessero essere attraversamenti per i denari rialzati o addirittura autovelo che ce ne fosse la possibilità sia su via Brunetti che su via Capelli via Capelli ripeto come un disco rotto e mi dispiace di dediare magari la stessa platea più volte ma abbiamo sempre legata all'emergenza pandemica un problema di affollamento del marciopiede di ingresso alla scuola di via Capelli perché insistono su questo marciopiede due capolinea di autobus dello 071 e dello 073 quindi auspicheremo che questi capolinea vengano chiediamo con forza in realtà che questi capolinea vengano spostati e noi pensavamo per non appesantire la viabilità diciamo della zona di poter utilizzare l'ex cementificio che sta di fronte proprio alla scuola di via Capelli ieri in uno scambio di mail con l'assessore Drago ho compreso che la zona che dovrebbe essere destinata allo spostamento dei capolinea non è in realtà l'ex cementificio ma quella che è stata individuata dal municipio è l'utilizzo di un parcheggio diciamo su via Brunetti il primo parcheggio su via Brunetti venendo da via Capelli non so se qualcuno di voi è presente praticamente si utilizzerà il parcheggio a fianco al capolinea del silobus e questo diciamo potrebbe creare delle difficoltà ulteriori alla viabilità del quartiere in ogni caso se avrò la possibilità di partecipare anche alla commissione dei lavori pubblici di giovedì parteciperò volentieri spiegherò quali sono le nostre esigenze grazie grazie signora allora come forse già abbiamo accennato ieri abbiamo cercato di rimanere sul tema del bilancio ora le altre cose che lei ha menzionato saranno sicuramente delle criticità che i cittadini la scuola il corpo docenti ha rilevato ma riguardano una visione comunque a 360 gradi e delle questioni che andrebbero affrontate forse singolarmente per competenze e comunque sia diciamo secondo me pur essendo molto molto importanti perché riguardano una parte della cittadinanza in questo momento diciamo così non non rientrano in ambito del discorso del bilancio del previsionale e di quello che stiamo analizzando su la prima chiedo scusa però se questi interventi prevederebbero comunque l'impegno di spesa sì sicuramente come dicevamo prima ci sono molte criticità e tutto avrebbe bisogno di impegni di spesa e quindi dovremmo veramente abbiamo sicuramente una lista del municipio che penso che sia quasi infinita quindi sicuramente qualsiasi criticità che possa essere personale o comunque collettiva ha necessità di impegni di spesa nel momento in cui deve essere risolta va capito effettivamente di cosa si sta parlando quindi le parlava dello spostamento del capolinea ha parlato di infiltrazione all'interno di un plesso che non ricordo quale capire se sono infiltrazioni che sono in sorte quanto tempo fa se riguardano la manutenzione insomma va approfondito sicuramente in ambito di lavori pubblici questa situazione ma per capire più che altro di che cosa si sta trattando perché infiltrazioni posso dare una risposta a proposito della della presidente del consiglio d'istituto che ho chiesto agli uffici di darmi la situazione della posso prego prego se vuoi rispondere ben bene presidente pulito signora signora pulito mi sente l'ascolto con un grosso interesse allora ho fatto fare la verifica come lei chiedeva e anche la consigliera tallarico per quello che possiamo le verifiche le facciamo fare ovviamente se vengono chieste cose diciamo di cui magari non abbiamo possibilità di fare rapidamente non possiamo rispondere allora la secondaria dei finetti sarà oggetto di un nuovo intervento di permeabilizzazione come tutti sappiamo che stiamo concludendo in questi giorni la giudicazione era nel piano investimento di 2019 quindi questo è il discorso io l'ho scritto anche ieri quindi questa è Alessandra Tallarico hai sentito la prima risposta questa è una risposta che sto dando oggi in commissione anche se è di lavori pubblici quindi l'abbiamo reperita la prima risposta va bene sempre pulito vorrei chiedere i 150 mila euro di cui si parlava ieri che poi non comparivano più in realtà quindi ci sono sono del 2019 signora non sono non è che noi ogni anno allora anche gli investimenti del 2020 non compaiono nel 2019 non compaiono più nel 2020 e qua viene riportato perché sono in aggiudicazione e nel corso del 2020 poi vengono aggiudicati perché hanno più tempi ci sono più tempi per aggiudicare e non è che ogni anno viene riportato tutto il piano investimenti anche quello che sta per essere raggiudicato quindi questo intervento di rifacimento del tetto è previsto sia per la primaria che per la secondaria allora stanno affidando riguarda tutti i 150 mila euro poi ulteriori cose dobbiamo come le dicevo dobbiamo parlare con i tecnici se no facciamo i tuttologi io adesso oggi ho riferito giovedì sarà la sede allora quando aggiudicheranno prendiamo il tecnico ci parliamo il RUP e le faccio avere proprio l'aggiudicazione lei mi ha sempre chiesto ma non in questa sede oggi stiamo parlando del bilancio del municipio non è questa la sede oggi anche se a noi fa piacere avere i cittadini che ci seguono però diciamo non riusciamo a dare una risposta precisa comunque la cosa fondamentale è che è stata data in appalto e sta per essere giudicata in via definitiva e partiranno a brevi lavori scuola dell'infante quindi la scuola è la scuola il plesso della scuola va bene? sì va bene poi magari i tempi più o meno quali sono quindi signora mi dispiace mi scusi adesso adesso io non sono l'assessore ai lavori pubblici mi scusi mi perdono io sono a disposizione ci sentiamo dopo grazie grazie per qualsiasi cosa comunque come ha detto anche l'assessore sicuramente chi è competente le saprà rispondere e le risponderà e deve comunque risponderle per darle una risposta cerchiamo di essere appunto tornare sul tema principale che era quello del previsionale di bilancio stiamo cercando di capire cosa andare ad affrontare poi da qui a venerdì cercando di conoscere eventuali criticità osservazioni proposte da parte di forze politiche e anche i cittadini quindi questo secondo me è l'obiettivo di questa commissione quindi rapidamente do la parola al che si era prenotato in ordine al signor Pluchino spero di averlo detto bene anche lei cortesemente di essere abbastanza come dire distretto nei tempi e che la sua diciamo così intervento possa essere comunque attinente al discorso del bilancio grazie grazie a lei buongiorno a tutti intanto allora io parlo in rappresentanza del comitato di quartiere di Torrino Mezzocammino è collegato anche il presidente Francesco Avriano in questo momento è impossibilitato sarò abbastanza breve tre temi che hanno a che fare con il bilancio uno è già stato citato sono gli uffici amministrativi del nuovo istituto comprensivo delle scuole di Mezzocammino deciso nell'inverno dell'anno scuola del 2020 quasi un anno e mancano ancora quegli uffici mi pare che già due consiglieri hanno fatto cenno a questa questione che penso si stia trascinando ormai da troppi mesi perché l'istituto comprensivo non ha dei locali in cui collocare il suo vertice insomma la presidenza seconda questione largo benito Iacovitti anche questa questione nota penso a tutti voi che si trascina da anni c'è un plesso una struttura privata con una piazza però a uso pubblico piazza coinvolta la struttura coinvolta da anche un procedimento penale un sequestro una discarica abusiva nei sotterranei e erano stati istanziati 500 mila euro progettemi se sbaglio per completare per completare i lavori che non erano mai stati fatti privati in particolare appunto perché esiste una piazza privata a uso pubblico con attività commerciali alcune strutture destinate a attività commerciali che sono non completate ormai faticenti ci risulta che questo importo sia diciamo ritornato a Roma capitale perché non utilizzato volevamo capire se è così e soprattutto se è possibile ritornare a questo stanziamento perché quella piazza e quel luogo sono veramente in condizioni assai critiche e terza questione e anch'essa discussa in altre commissioni i fondi del cosiddetto piano casa coi fondi versati dai costruttori nell'ambito del piano casa e degli aumenti di pubatura a compensazione perché si facciano opere pubbliche nel quartiere a compensazione appunto dell'aumento dei volumi delle costruzioni per alcune abitazioni destinate a housing sociale una parte di quei fondi sono stati impiegati per la scuola seconda scuola media che dovrà sorgere mezzocammino il cui iter è in corso anche se non abbiamo aggiornamenti recentissimi però ci sono altri importi derivanti da quel piano casa e quindi vogliamo sapere se anche questi entreranno in questo bilancio triennale ho finito grazie mille sì sono comunque alcuni interventi alcune questioni sono già state portate all'attenzione in altre commissioni in altre sedute sul discorso del largo Iacovitti assolutamente sì c'era una posta in bilancio che era di circa se non sbaglio 480 mila euro era però per un intervento in danno nei confronti appunto del proprietario lì sopra c'è comunque sia un discorso di magistratura in essere e sicuramente anche qui qualche cosa in più le saprà dire l'assessore competente ai lavori pubblici perché anche da me più volte sollicitata sulla situazione segue parzialmente o comunque dovrebbe conoscere la questione ma era comunque un intervento in danno nei confronti del costruttore del proprietario roba del genere grazie andiamo avanti che c'era prenotata l'avvocato canale sicuramente una risposta nei confronti dell'assessore anche lei non torniamo cerchiamo di essere propositivi ecco dai velocissimamente così possiamo poi portare a chiusura la commissione grazie guardi solo per dire che per le coperture non l'ho visto perché non era nel bilancio ovviamente del previsionale del 2021 perché è stato come ha detto l'assessore finanziario nel 2020 quindi ho solo chiesto un chiarimento parlo della copertura del mercato regionale per il resto non ho risposte quindi pace prendo atto che non ho risposte comunque ho mandato ieri una documentazione anche fotografica così ve la potete vedere arriverà al protocollo del municipio quindi gli uffici tecnici ce l'avranno delle buche che ci sono a via Gradi che era nel DUP sia di settembre che nel DUP del 23 dicembre io trovo allucinante che ci siano oltretutto queste strade non è che sono state definanziate spostate in un'altra annualità sono state proprio definanziate cioè non ci sta manco previsionale più negli altri anni altri interventi ripeto del 2023 sono finiti nel 2021 finanziati è che questa è la cosa assurda scusate lo ribadisco ma non è perché ce l'ho con uno ce l'ho con l'altro non me lo vuole spiegare l'assessore al bilancio me lo spiegherà l'assessore Maiolati che però più tardi di un mese fa mi aveva detto che avevano la priorità le strade sui marciapiedi allora poi cambia un'altra volta e bisogna capire però perché cambia e mi dispiace buona giornata grazie avvocato canale e l'assessore per la sua mano alzata deve intervenire o era quella precedente è vecchia la mano perfetto allora consiglio di crescenza anche lei oppure nuova no presidente in realtà io volevo dire quello che ho rispetto al definetti che erano punti da fondi del 2019 poi ha risposto correttamente l'assessore allora rapidamente io vedo che è collegata anche l'assessore Lalli non so se vuole intervenire 30 secondi per un piccolo chiarimento nei confronti dell'intervento della signora Pulito ma così brevissimamente se vuole visto che è così disponibile e gentile secondo me sarebbe appunto opportuno dare alla alla signora comunque anche da parte sua una una piccola risposta allora presidente la ringrazio per quanto riguarda però la scuola eh dei finetti eh sarebbe opportuno poi rispondesse la collega perché si tratta di lavori e di interventi che riguardano anche la mobilità dei quali siamo al corrente per cui gli assessori competenti invece se fosse possibile un chiarimento su quello che è la segreteria del del plesso Bonelli appunto perché eh voglio soltanto precisare che la segreteria c'è è attiva è funzionante che la segreteria si trova in quel plesso dell'istituto comprensivo perché aveva eh locali destinati fin dalla sua progettazione alla segreteria quindi quello che è stato chiesto sono interventi di manutenzione ordinaria quindi questo ha chiarimento di tutti perché sembrava che la segreteria non ci fosse la segreteria c'è è attiva e funzionante soltanto che il dirigente scolastico ha espresso la richiesta di maggiori spazi lo voglio precisare perché sinceramente è d'agosto che personalmente ho eh avuto più incontri con l'ufficio scolastico regionale con i dipartimenti per cui compresi i nostri uffici eh il secondo chiarimento solo per dare un'informazione in più sul museo della civiltà romana ho parlato ovviamente con l'assessore e il consigliere della con la presidente eh della commissione preposta voglio ricordare che il museo della civiltà romana è di competenza eh centrale quindi dipartimentale della sovrintendenza e pertanto mi è stato assicurato che sarà trattato il tema in modo specifico nella commissione appunto eh competente ossia la commissione cultura capitolina eh voglio ricordare che la commissione sesta municipale è vero che ha trattato l'argomento ma eh l'istruttoria non è stata mai esaustiva in quanto sono sempre mancati eh gli interlocutori eh fondamentali ossia sia eh la presidente della commissione cultura capitolina e sia i dipartimenti e la sovrintendenza quindi gli uffici preposti per cui a livello locale quello che noi stiamo facendo e continueremo a fare è quello di far sì che eh i nostri le nostre istanze vengano acquisite a livello centrale eh per quanto riguarda insomma la manifestazione di intenti di interesse eh questi erano i chiarimenti che mi sentivo di eh poter dare a beneficio di tutti grazie presidente grazie assessora Lalli chiara e completa come come sempre per quanto mi riguarda e quindi anche il discorso della segreteria che era nata ieri come questione nella commissione appunto di ieri secondo me è stato chiarito e è stata chiarita la questione e per quanto mi riguarda posso solamente dire che al netto di tutti questi interventi al netto di una serie di considerazioni che abbiamo fatto di criticità che sono emerse eh per quanto diciamo concerne la competenza della commissione quinta che sarà quella che poi si dovrà esprimere eh su questa previsione di bilancio eh mi sento di dire che eh probabilmente venerdì eh potremmo andare ad analizzare una serie di osservazioni eh e proposte che verranno fatte da tutte le forze politiche eh al fine di arrivare a alla votazione questo poi in consiglio comunque di un documento che possa cercare di eh come dire di accogliere il più possibile eh le esigenze eh che sono sorte eh anche in itineri ovviamente sempre con un minimo di di eh come dire un minimo di 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 contezza anche dal punto di vista tecnico perché come è stato ribadito più volte eh è facile dire io voglio questo se poi eh non è diciamo non è seguito da un percorso di natura tecnica che ci possa permettere di dire sì ok questa richiesta la possiamo soddisfare inserire in qualche modo eh altrimenti sarebbe eh come dire una una proposta un pezzo di carta qualora lo dovessimo andare a inserire su questo allegato a privo di di fondamenta e almeno personalmente mi sento di dire che eh non 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 riuscirei a a votare un atto eh che eh o un documento che sia privo di di contezza e di copertura non solo economica quella ce la speriamo lo speriamo tutti ma soprattutto di di copertura tecnica quindi torno a ripetere tutto questo deve essere un percorso di tipo costruttivo cerchiamo di essere eh di essere conscienziosi e di capire che sicuramente eh stiamo vivendo e continueremo vivere un periodo molto critico e che come sempre l'obiettivo deve essere un obiettivo comune che riguarda l'intero municipio nono quindi signori grazie per il supporto da parte di degli assessori degli uffici che anche magari non sono intervenuti ma che c'erano erano presenti e grazie alle proposte al confronto che si è instaurato da parte di tutti i consiglieri ma anche dell'intervento di tutti i cittadini speriamo di arrivare venerdì o comunque alla fine in consiglio del municipio con un con un con un documento che possa soddisfare il più possibile le esigenze dell'intero dell'intero municipio quindi se per per tutti voi va bene non ci sono altri interventi io chiederei a Carmen io mi sono prenotata veramente scusate assolutamente non vedo non avevo visto mi ero prenotata se posso no 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 rapidamente assolutamente sì e poi c'era anche la dottoressa Mercuro vedo che ha alzato la mano quindi prego consigliere la dito e poi gli uffici se vogliono interventi ok ok grazie allora la questione la prima questione è questa la prima questione è questa è stato detto non entro nel merito ovviamente perché non mi piace cascare nel diciamo nel brutto gioco della polemica che le esigenze del titolo 1 sono state esplicitate allora io parto sempre dal presupposto che mi sbaglio ma avendo risentito un'ora e 49 di commissione lavori pubblici congiunta con ambiente e la commissione di ieri che è durata 4 ore vi dico che o io incomincio a essere effettivamente stanca o l'età avanza o effettivamente i dettagli della componente quanto riguarda le esigenze della direzione tecnica almeno mi limito alla parte della scuola che conosco un po' di più non mi sembra che siano state esplicitate peraltro non c'erano comunque invitati gli uffici ieri per cui è importante secondo me che comunque se ne parli quindi non è stato proprio esplicitato tutto l'altra cosa che vi volevo dire è sempre in replica all'intervento in questo caso ci tenevo a precisare che se io ho chiesto di fare riferimento in questa commissione ad una nota particolare che garantisce ai cittadini come dire in modo trasparente del perché stiamo arrivando a rinviare la votazione che era prevista oggi perché sono subentrati dei fatti ci sono stati dei capigruppo ci sono stati un po' di problemi e di base c'è una garanzia che il Campidoglio ci aspetta secondo me citare la nota con il protocollo e la data è solamente una questione di completezza del verbale e dell'istruttoria che stamattina stiamo facendo trattandosi di una seduta pubblica quindi non mi piace mai dare nulla per scontato per quanto riguarda invece la questione con l'assessore De Novellis in particolare è vero che noi ci ha ribadito più volte dobbiamo parlare di numeri ma i numeri rispetto ai fatti di gestione non è che sono dottor Jekyll e mister Hyde i numeri sono la traduzione dei fatti di gestione e quindi non è che dobbiamo dire oggi si parla di numeri e domani o ieri si doveva parlare dei fatti perché è stata la gestione dei fatti ed il metodo di traduzione dei fatti in numeri che ci garantisce che nel bilancio di previsioni su cui noi e non gli assessori ci dobbiamo pronunciare assumendoci pertanto chiaramente una responsabilità in aula dobbiamo essere informati quindi ben venga l'informazione completa i numeri rappresentano i fatti e noi vogliamo sapere questi numeri come li rappresentano per quanto riguarda l'emendamento io sono preoccupata non vorrei arrivare all'ultimo momento e poi non ce la facciamo del resto è la maggioranza che ha più informazioni di noi vedete io quante questioni ho sollevato quindi è importante che qualcuno prenda subito carta e penna e chi ben conosce le cose perché non è sempre così soprattutto per chi sta come dire all'opposizione sapere quello che c'è nel 2000 nel 2019 vedete quante cose importanti vengono fuori da un'istruttoria come quella di oggi è importante che si faccia chiarezza e che qualcuno incomincia a mettere nero su bianco per non indurre in errore nel momento in cui noi andiamo a preparare questo famoso emendamento che effettivamente non ha nessuna garanzia che venga effettivamente accolto dal Campidoglio per quei motivi che correttamente sono stati rappresentati e l'ultima questione invece che volevo dire è una replica all'assessore Lalli per quanto riguarda il Museo della Civiltà Romana gli inviti per esempio quindi quando viene detto che l'istruttoria non è stata fatta in modo completo ma noi ne possiamo fare altre 40 di istruttori assessore ma gli inviti li abbiamo concordati insieme quando abbiamo fatto l'ultima seduta li ho concordati con lei che mi ha detto di estendere ho concordato con i cittadini tant'è che io ho invitato ma in alcuni casi non c'è stato accoglimento della partecipazione e poi per quanto riguarda invece gli inviti io a differenza di quello che ha fatto per esempio la commissione Capitolina Cultura ho invitato anche la sovrintendenza di Stato proprio per rendere quanto più possibile completa l'istruttoria che è un tassello in più che in Capidoglio non era stato ancora fatto ed è servito per poter avere delle risposte poi voglio dire ci ha fatto lei da ponte da interfaccia telefonica con la sovrintendenza uno chiaramente ce la mette tutta sbagliare si può però non diciamo che i risultati sono collegati ad un istruttore incompleto o meglio i risultati che non si sono avuti sono collegati ad un istruttore incompleto perché ad oggi dopo quattro anni e mezzo di consigliatura e dopo sette anni di chiusura di un museo capitolino venire a come dire a diciamo a ragionare su quello che manca in questo bilancio e che mi è stato detto non me ne devo occupare perché non è il numero dedicato al municipio mi fa venire tanta di quella tristezza nel cuore che per me rispetto a quello che invece è emerso nella commissione cultura capitolina è confermato purtroppo nella commissione nostra locale è venuto fuori che effettivamente guarde caso c'è stato un errore e che quei fondi di un milione e tre che ci dovevano essere funzionali alla riapertura e previsti peraltro nel DUP al 30 settembre non ci stanno e questo politicamente è veramente grave perché dovevamo fare di tutto per evitarlo io e lei insieme ci abbiamo provato poi su questo non possiamo fare di più ne prendiamo atto però comunque il municipio ha provato in tutti i modi a fare un'istruttoria completa io con questo ho terminato mi farebbe piacere sapere se per caso tra gli ospiti c'è qualcuno che può dare come dire delle informazioni in più o comunque approfondire la tematica sul museo perché non stiamo parlando di un concetto avulso dal bilancio di previsione ma un concetto che ne è parte deve esserne parte perché il bilancio di previsione su cui noi votiamo è comunque che ci piaccia o meno come avviene anche chiaramente nelle altre delibere il bilancio di Roma Capitale e ci sono mille dispare pagine del DUP che ci siamo dovuti guardare ok ho terminato consigliera Tallarico allora dottoressa Mercurio visto che ha alzato la mano quindi gli uffici se devono dire qualcosa o forse è un errore non lo so è così presidente presidente no sono l'assessore solo per no chi è l'alà li prego no ma solo per replicare forse non sono stata chiara consigliera Tallarico perché mi sembra evidente che insomma le parole forse sono state comprese male allora la sua commissione non ha concluso un'istruttoria perché sono stati assenti gli invitati l'ho specificato prima e non ho dato nessuna colpa alla commissione che come ha detto lei ce l'abbiamo messa tutta è importante ribadire che e ripeto ho parlato con la presidente della commissione Capitolina Cultura la quale ovviamente afferisce per delega la discussione sull'argomento che ha in programma una commissione specifica di bilancio legata alla questione museo della civiltà romana non so se sono stata chiara in questi termini non dico che assolutamente è distante da noi il tema lo sa benissimo che ho sempre partecipato alle commissioni ho cercato di aiutare l'iter ma se le persone non accolgono il suo invito è chiaro che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare quindi voglio chiarire questo perché mi sembra sia stato un po' capito male il mio intervento ecco ripeto magari non avevo non ero stata chiara grazie presidente Enrico grazie grazie assessora grazie allora eccoci prego dottoressa Mercurio chi per lei insomma siamo tutti qua c'è anche il collega insomma noi dell'ufficio bilancio come tutte le commissioni anche oggi abbiamo presenziato abbiamo preso insomma tutti i vari appunti che potrebbero eventualmente servire per delle eventuali dimutilazioni tecniche ma non poi questo sarà da decidere più là però ecco non siamo intervenuti perché le questioni poi sollevate erano più tecniche che di bilancio cioè tecniche nel senso che riguardavano i singoli fisi degli indirizzi politici per cui in questa sede non siamo intervenuti però qualsiasi informazione qualsiasi quesito siamo qui ecco siamo presenti grazie dottoressa Giuglianzio magari è stato no 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 stiate tranquilli state tranquilli tutti voi vi ringraziamo per il supporto sappiamo che anche se non vi sentite ci siete e lavorate per il municipio quindi state tranquilli soprattutto in questo periodo siete molto impegnati e torno a ripetere e vi ringrazio per i sacrifici in questo periodo che state facendo insieme a tutta la parte politica quindi grazie di tutto e se abbiamo bisogno come al solito non esiteremo a contattarvi grazie e un saluto a tutti e tre allora il signor Sciarra guardi vada non più di tre minuti ma non è cartiveria io vedo anche il consigliere Cagliardi facciamo così io alle 12.10 chiudo chiudo la commissione altrimenti non ne usciamo quindi prego signor Sciarra e poi a seguire il consigliere Cagliardi grazie restate avete sei minuti a disposizione tra tutti e due fate voi grazie non è cattivello ma devo essere cattivo come presidente fa benissimo grazie buongiorno cercherò di prenderne solamente due per lasciare al consigliere come giusto i quattro minuti rimanenti come presidente del comitato per la riapertura del museo della civiltà romana ho naturalmente eseguito con interesse tutta la commissione anche quello che ovviamente non riguardava una cosa così specifica e ho già preso cognizione causa del fatto che ovviamente questo tipo di interventi una commissione di natura municipale hanno un valore assolutamente relativo non è questo tanto il punto quanto la mia sollecitazione che io faccio nei confronti di tutte le componenti politiche e che ormai stiamo facendo già da quasi quattro anni a continuare a seguire con la massima attenzione ad operare affinché vengano finanziati i lavori che sono necessari alla riapertura almeno parziale del museo prendo atto con soddisfazione del fatto che ci sarà e lo ha detto l'assessore Lalli che così come la presidente della commissione cultura Alessandra Dallarigo si sono impegnate lo hanno detto ed è la verità perché io ne sono testimone prendo atto del fatto favorevolmente che ci sarà una nuova commissione di bilancio che ragionerà sul museo della città romana però la realtà dei fatti non può essere messa diciamo da parte la realtà dei fatti è che nel DUP il finanziamento anche dell'apertura parziale non c'è non c'è nonostante si siano stati fatti un lavoro istruttorio di 7 commissioni comunali più altre 4-5 municipali complete o incomplete questo non sono io che lo devo dire però è stato fatto un lavoro preparatorio importante un lavoro che magari anche in maniera molto faticosa ha portato la sovrintendenza a presentare un progetto un progetto che comunque a meno a mio avviso non sono un tecnico specifico però sono comunque un tecnico posso definire esaustivo per quelli che possono essere gli obiettivi minimi il museo della città romana appartiene a Roma ovviamente non appartiene anzi visto parlando di Roma apparteniamo al mondo non possiamo dire che apparteniamo solo a una città di 3 milioni e mezzo di abitanti però si trova all'interno di un territorio e si trova all'interno in un territorio in cui una zona in cui praticamente questo territorio è uno stato di abbandono non è colpa del municipio ovviamente ci mancherebbe altro di nessun esponente del municipio però è un territorio che va recuperato va recuperato come tante altre cose che ho ascoltato durante questa interessantissima se mi permette il superlativo commissione e quindi io un appello forte che io faccio a tutti i consiglieri presenti e anche a quelli assenti ma non cambia nulla a tutte le componenti politiche di essere sul pezzo di non lasciare neanche un secondo il pezzo faremo un'ottava commissione sul museo della città romana la realtà è che le sette commissioni comunali precedenti non hanno generato l'inserimento all'interno del bilancio del documento del DUP 2021-2023 il finanziamento dell'opera che serve a riaprire il museo questi sono fatti e non possono essere in nessuna maniera contestati e questo è secondo me un aspetto assolutamente negativo questo non significa che non continuino a lavorarci sopra mi accorgo che sono drammaticamente passati due minuti e quindi lascio diciamo la parola e la ringrazio di avermi dato la possibilità di intervenire comunque di nulla ci mancherebbe sì non si tratta di commissione bilancio che verrà fatta ma probabilmente di commissione comunque scuola capitolina che tratterà l'argomento in funzione del no scusi la correggo non sarà sicuramente né commissione cultura scusi se la correggo non sarà né commissione cultura probabilmente né commissione scuola trattandosi di un museo ma trattandosi di un progetto probabilmente sarà una commissione bilancio unificata con la commissione cultura l'impressione personale esatto in funzione del bilancio di Roma Capitale grazie comunque per l'intervento Gagliardi prego un minuto un secondo telegrafico ribadivo soltanto la richiesta dell'ufficio dell'economato se fosse possibile avere la stima dell'acquisto delle mascherine di P quindi FFP2 FFP3 per il personale delle scuole asilo nido e infanzia solo questo grazie perfetto accogliamo la richiesta del consigliere Gagliardi allora signori io vi ringrazio quindi chiudiamo la commissione alle 12 e 10 si prego ufficio uffici allora non si sente allora parlo questa sede parlo come economo non come responsabile del bilancio allora come economato praticamente abbiamo diciamo previsto una fornitura per le mascherine di P che per gli uffici e le scuole da quanto è stato indicato non devono essere FFP2 ma sono semplicemente le mascherine quelle classiche chirurgiche e abbiamo una fornitura diciamo una copertura fino a settembre per cui diciamo compriamo tutto dell'anno scolastico comunque abbiamo anche previsto diciamo una fornitura limitata di FFP2 per situazioni estremamente particolari anche se diciamo ad oggi non c'è nessuna indicazione tra l'altro anche il medico competente l'ha confermato dell'esigenza dell'FFP comunque diciamo abbiamo una piccola scorta anche di tutto qua perfetto grazie alla consigliere Cagliardi e poi chiudiamo sì no io ringrazio ovviamente di Laure ringrazio l'ufficio io lo proponevo come un di più che potevamo offrire ai dipendenti solo quello quindi se fosse possibile se anche insomma in consiglio si dovesse trovare un interesse in tal senso io propongo la possibilità di dare questa ulteriore copertura in più a questi settori molto esposti e molto ravvicinati con una fascia d'età estremamente delicata solo questo grazie a tutti se posso aggiungere a quello che ti chiede il collega sì prego il numero dei nazionieri fino ad oggi acquistate e quindi disponibili sono nel numero di 30 mila ovviamente perché con noi non c'era necessità di fare e questo numero di 30 mila è riferito sia di un personale del municipio che al personale scolastico il numero delle mascherine di questi due di cui parlava di lauro è nel numero di 3 mila e come dicevo anche nella precedente commissione nella quale giustamente mi era stata fatta questa richiesta sono fondamentalmente a disposizione proprio perché non necessitano i bambini delle insegnanti o educatrici fondamentalmente anzi più educatrici che insegnanti che hanno una necessità maggiore di un contatto più vicino e ravvicinato ovviamente con i bambini da 3 mesi a 3 anni o in situazioni ovviamente con bambini con diverse disabilità per le quali anche un rapporto fisico è chiaramente importante e di conseguenza ravvicinato relativamente poi all'acquisto di ulteriori mascherine noi abbiamo dei contatti con il dipartimento razionalizzazione della spesa e non sono intervenuta prima proprio perché pensavo magari di rispondere poi nella commissione specifica per il quale mi sto informando ancora di più e sarà il dipartimento da gennaio quindi da questo mese a predisporre l'acquisto di tutte le mascherine necessarie cosa invece diversa per gli istituti comprensivi per il quale ci pensa il MIUR e quindi ci pensa allo Stato però quindi volevo rassicurare che per quanto riguarda le scuole e soprattutto NIDI in particolare e scuole dell'infanzia il lavoro che si sta facendo anche ovviamente come direzione socioeducativa quindi con le POSES è quello di quantizzare le necessità e il fabbisogno per ogni scuola soprattutto anche legato all'FP2 l'ultima riunione fatta con il medico competente e appunto lei ci confermava che l'FFP2 assolutamente non è necessario all'interno degli istituti comprensivi delle scuole ma comunque ripeto questa piccola significativa credo riserva comunque noi l'abbiamo già acquistata precedentemente grazie dottoressa Saracino per le precisazioni allora io ringrazio nuovamente tutti ci vediamo nei prossimi giorni auguro una giornata di festa domani più gradevole possibile a tutti e possiamo chiudere quindi alle 12 e 15 la registrazione e la seduta di commissione ancora grazie a tutti quindi interrompo grazie a tutti